benvenuti buonasera come state eccoci qua dopo finalmente una piccola settimana di pausa dalle live e dai social più o meno perché poi qualcosina ho postato comunque siamo di nuovo in live benvenuti ci di ciao e buonasera a tutti come state abbiamo una piccola defezione dopo questa questa entry music di un certo livello benvenuti a tutti ciao albe e grazie mille dell'abbonamento grazie mille dell'abbonamento anche a cosarito 97 e ricordatevi che c'è il subtember quindi per tutto il mese di settembre tutto scontatissimo sub scontate regali di sub scontate sub regalate a caso trovate tutto comunque in chat basta scrivere appunto immaginate cosa punto esclamativo subtember eccolo qua ciao zio daria di twitch ciao blue wire ciao giuma 90 ciao argus soul mooding il tuo nickname mi dice qualcosa mi dice e non mi dice qualcosa sei tu sei proprio tu ciao cioppino ciao a tutti imitazione 10 su 10 esattamente quello che penso anche io comunque facciamo subito entrare i nostri ospiti perché stasera ce ne sono diversi e per parlare di una saga che io ho recuperato piano piano ma piano piano nel senso degli anni proprio perché in realtà l'ho recuperato anche abbastanza in fretta ad agosto avevo già visto tutti i film i primi due poi il terzo me lo sono visto in questi giorni perché comunque avevamo deciso di fare questa live adesso a settembre io l'avevo già proposta a metà agosto ma qualcuno non c'era insomma quindi ho preferito appunto rimandarla di qualche giorno ma qualche anno più tardi rispetto all'uscita del primo film diciamo che appunto il 1977 comunque vediamo chi c'è nel backstage e li facciamo subito entrare a cominciare dal nostro dart pelato ciao dart pelato come va tutto ok cazzo potevo mettere il quadro aspetta me ne vado torno subito va bene ok dopo va bene ragazzi ho a che fare con gente di quasi 50 anni però che vedete giustamente c'ha queste piccole fisse e io li comprendo vedete non ho infatti contrattato più di tanto per questa cosa perché le capisco sono queste puttanate che danno il sale della vita anche a me quindi lo capisco benissimo per quello glielo lascio fare tranquillamente li tratto come se fossero normali assolutamente assolutamente vediamo se è tornato con questo qua no ancora no va bene va bene aspettiamo aspettiamo quanti di voi non hanno mai visto star wars quanti di voi invece l'hanno visto così e così quindi qualche film no qualche film sì quanti di voi invece adorano star wars sono dei fan sfegatati della saga che hanno visto anche i film più orripilanti come quelli sugli ewok che sto vedendo anche io in questi giorni perché io sono di quelli che quando parte per fare le cose le vuole fare proprio a 360 gradi cioè voglio vedere veramente anche le cose peggiori mai create ed effettivamente ho la fortuna che su disney plus c'è un po tutto quindi posso recuperare qualsiasi cosa bazooka gum gum grazie mille per l'abbonamento livello 1 avete 40 secondi per far arrivare il treno dell'hype non so se ce la farete sono pochi secondi ma ricordatevi che è tutto scontato per questo subtember quindi potreste anche farcela eventualmente aspettate che mi copio e mi metto qui sul computer anche un paio di appunti che mi sono che mi sono fatto niente di che in realtà perché comunque voglio che la live sia abbastanza di abbastanza a ruota libera come come facciamo sempre albe dice che gli piace di più star trek io non ho mai visto quello per esempio visto oggi l'episodio 9 bazooka gum gum visti anche gli ultimi che portano solo il nome di star wars dice cioppino quindi c'è già un po di di polemica mi piace mi piace giuma 90 è super fan visto rivista non mi basta ancora innumerevoli volte anche argus ciao canzio benvenuto potere pelato sempre utuka 7 a me piacciono solo i primi due film di star wars e il 2 della nuova saga ok quindi tu sei molto 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 selettivo da quello che vedo ok ok adesso sentiremo anche gli ospiti cosa cosa ne pensano va bene vediamo se ha preso finalmente questo poster quadro quadro giustamente ma potrebbe potrebbe diventare una gara eh a chi tira fuori il gadget più particolare è meglio si vede un po di più ecco ma guarda che ho messo anche i fumetti eh guarda li ho messi a posto ah l'hai fatta no non ci credo ragazzi fantastico fantastico vabbè allora steve il primo che è entrato però è da tre ore che sta facendo avanti indietro da quella sedia quindi adesso non c'è vuoi farmi entrare eh ah vuoi lo faccio entrare ok vuoi direttamente cammino va bene allora faccio secondo me ha preparato qualche sorpresa facciamo entrare steve ragazzi un bell'applauso che così lo carichiamo ah eccolo ecco ah ecco perché pronti per questa live pronti il famoso mandaloriano con la spada laser ha fatto un mix che vergogna c'è anche un poser mi sembra proprio un poser quest'uomo eccolo oh eccolo ecco le cuffie anche va che taglio ma che taglio giovanile che ha steve visto è una crisi di mezza età eh si no ti vedo molto asciutto molto pulito si si come stai ti sento un po male non so se non è che hai il microfono hai un altro microfono selezionato non è che c'è quello delle cuffie aspetta intanto si sente il rumore della spada laser ovviamente ovviamente no ok no e forse era perché facevi un po di casino va bene va bene facciamo il coglionazzo si 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 e facciamo entrare anche il nostro ultimo ospite ultimo ma primo per anzianità ovvero il vecchio NEA è una live di giovanotti una live di giovanotti è l'unico che ha visto l'originale al cinema scusate se è poco inizia il flex mica sei proprio vecchio eh eh si che sono vecchio ragazzi l'ho visto in provincia perché da noi arrivavano quasi due anni dopo i film ah ma è comodo te lo vedi 1979 all'età di quasi di poco più di cinque anni avevo ancora non andavo a scuola ma mio padre che era un grande appassionato di fantascienza mi portò a vedere star wars bello però fenomenale e già qui potremmo partire beh no anche perché c'è il vecchio nerd di riflesso si è anche goduto un po quello che è stato tutto l'impatto mediatico ovvio non com'è stato negli states magari però insomma anche in italia immagino che già all'epoca ci fosse un bel chiacchiericcio intorno al film quando è uscito la prima volta no? si si è stata io mi ricordo la pagina di diffusoresse e canzoni e tutte quelle cose che ti faccio un esempio mio padre a carnevale mi regalò un casco di Darth Vader all'epoca si chiamava Darth Fener eh si fatto di polistirolo e cartone fatto da un suo amico artista gli disse mi devi fare perché non c'era il merchandising sviluppato come oggi caschi che sono meglio di quelli che vediamo nei film no c'era una cosa che noi immaginavamo e poi io per una decina d'anni ho sognato la spada laser perché non arrivavano da noi i primi anni 80 non c'erano almeno io non le trovavo non le avevo mai trovate e imitavamo mi ricordo che mio zio c'aveva un negozio vi dico sta chicca perché mi avete fatto fare un salto nel passato proprio mio zio c'aveva un negozio di lampadine tutta questa roba così i neon quelli lunghi a quelli esausti noi li rubavamo per fingere che fosse pericolosissimo ma duravano ma duravano ma duravano un colpo sapete come sono delicati quei cosi però l'immagine che quella fosse una spada laser per noi era poi se colpì uno tra l'altro l'effetto più o meno era quello l'effetto dell'esplosione anche qua c'era il gas dentro sparava quella roba una gioia per gli occhi no fighissimo tra l'altro ho detto una cosa giustissima sul merchandising perché io poi sto vedendo anche documentari e quant'altro ho letto anche il libro quello di Box Brown sì esatto che vabbè meno male molte cose erano già state dette nei giocattoli della nostra infanzia si sapevano però è particolare questa cosa che i produttori di giocattoli non erano per niente pronti per quella esplosione che c'è stata infatti tipo il film è uscito d'estate loro a Natale ancora non avevano giochi pronti e a Natale hanno fatto uscire delle scatoline con dei bigliettini che dicevano ve li manderemo a marzo sì sì questo me la ricordo c'era anche nei giochi quelle della nostra infanzia sì 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 però io me le ricordo i giocattoli quando c'erano perché comunque io considerate che quando è uscito il terzo qualcuno si ricorda io comunque andavo all'asilo e mi ricordo che a Milano c'era questo negozio che stava vicino al cinema al teatro Manzoni che era Noè era un negozio di giocattoli che faceva la vetrina che faceva mezza galleria e aveva proprio la vetrina in cui c'erano tutte le mini le figure della che era no sì e lì c'era tutto la differenza di chi è cresciuto in un paesino di 7000 abitanti e chi è cresciuto a Milano io stavo dicendo più che 7000 abitanti io non sapevo esattamente cos'erano perché io non l'avevo visto il film nel senso che io il film l'ho visto per la prima volta in videocassetta a casa di un amico di mia mamma che aveva era il figlio e quindi andavamo lì la domenica e avevamo fatto l'apparatura di Star Wars visto in videocassetta e sarà stato più o meno quegli anni di tipo sarà stato 86-87 per capire però mi ricordo che c'era io mi ricordo che io avevo questa idea del il sottomarino di Star Wars di Guerre Stellari e dici che cazzo è il sottomarino di Guerre Stellari era la nave di Giabba ah ok ok era la credo almeno credo col senno di poi perché ovviamente non l'avevo visto il film quindi però vedevo questa roba che sembrava un po' una nave pensavo fosse una leggenda tipo la piovra dei Goonies no 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 ma figurate che io da Noè adesso io non so se è un ricordo fantasma o meno ma da sto negozio qua a un certo punto avevano la porta aeree dei G.I. Joe io non so se avete mai visto la porta aeree dei G.I. Joe in qualche video eccetera era una roba per cui dovevi essere il bambino ricco che aveva una camera per i giocattoli perché non potevi metterla via se no era grosso e un letto mi sembra che in vetrina ci fosse così a memoria potrei sbagliarmi però ho questa immagine di ricordo dell'infanzia io non mi ricordo cose così vecchie vabbè perché sei più giovane sono flash non molto ma proprio i ricordi di bambino non c'è gli occhi io alcuni non è che ho i ricordi precisi però certe cose ma anche perché lì noi ci andavamo spesso tutti i weekend mi portavano in centro quindi bene o male lì ci si passava tutti i giorni quindi inevitabilmente c'è da dire anche una cosa c'è da dire una cosa fondamentale che Umberto non ha mai fatto uso di droghe e di alcolici va bene comunque cosa stiamo dicendo ah ecco appunto no però allora non ti ricordi le cose di quando eri piccolino però insomma Thomas e Umberto ci hanno raccontato la prima volta che si sono approcciati a Star Wars quindi Thomas direttamente al cinema Umberto a casa dell'amichetto con le cassette te quando l'hai vista la prima volta e dove? io per i cazzi miei credo a casa recuperato ma molto più tardi in realtà probabilmente quando già avevo sviluppato un gusto mio non ho ricordi cioè della non della vecchia trilogia della prequel allora mi ricordo di averli visti quando ero più piccolo ma anche quelli non so se li vidi al cinema non mi ricordo sinceramente ma temo di no io c'ho una chicca sulla trilogia prequel dopo ve la dico ma quello la vedremo per il prossimo live dove vedremo la trilogia se è una chicchetta così la puoi anche dire poi la puoi anticipare poi dopo ovviamente sì bravo che hai anticipato comunque il mio piano questa è solo la prima trilogia assolutamente il mio piano è quello di fare le trilogie quindi le tre trilogie poi le serie poi no no io voglio no io voglio mettere tutto nel mezzo in realtà in ordine cronologico poi parliamo anche di questo io ho visto anche i due io ho visto anche i due film sugli Ewoks ma lo speciale di Natale l'hai visto ho visto i due film sugli Ewoks no io ho trovato questi come e lo speciale di Natale è difficile da trovare ma deve essere una roba che non l'ho mai visto intero ma è ultra mega cringe è una roba anche quelli sugli Ewoks sono cringe sì ma è peggio quello e te lo assicuro minchia c'è tipo la cosa di Natale con come si stanno io ormai sto andando sono morto quelle è l'età quelle è l'età lo fanno no però sì ne ho sentito parlare di questo special di Natale ma su Disney Plus non c'è però no non credo è una roba tv è una leggenda ma esiste no esiste esiste ma addirittura anche i due film sugli Ewoks per esempio sono non c'è l'italiano c'è solo l'inglese cioè no no davvero su su cose non c'è beh ma esiste l'italiano io ce li avevo in italiano eppure ci sono tutte le lingue c'è il polacco anche con la voce narrante sopra i doppiatori sono persi i doppiaggi perché io li ho visti tipo a suo tempo ma li avevo in videocassetta non per i originali penso che ci sono stati dalla tv però infatti mi sembrava strano cioè io ho visto c'è il giapponese c'è il polacco tedesco si sono persi di ria a volte capita che si perdono i doppiaggi o i diritti e chi cazzo gliene fotte di stare a ridoppiarlo no ma capita allora anche se vorrei dire una cosa per quanto ci sia un grande amore verso la prima trilogia visto che è ancora molto attuale anche dal punto di vista insomma del racconto della storia forse un po' l'ingenuità degli anni 70 degli anni 80 ci sta però secondo me uno dei talloni d'Achille di quella trilogia è il doppiaggio italiano non perché fosse male ma perché hanno diciamo fatto delle modifiche presupponendo che gli italiani non fossero pronti verso alcuni termini americani e che hanno parliamo più della data della guerra dei cuoti sì tipo la guerra dei cuoti Fener a posto di Vader perché Vader si scriveva Wader e si è troppo vicino Wader come però Fener io lo capisco per i tempi cioè non lo reputo perché Han e Yan scusatemi perché Han era troppo difficile da pronunciare è troppo difficile da pronunciare Leia e Han troppo difficile erano completamente diversi ho capito però madonna cioè non è che noi ci lamentiamo a pesta vos ma succedeva sì 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 no però mi piacerebbe vedere con un doppiaggio moderno e rivederlo con un doppiaggio moderno come hanno fatto per altre opere è stato beccadino sugli anime classici che ne so Mazinga Z con il doppiaggio nuovo Goldrick con il doppiaggio nuovo sono molto più attuali sono molto più carini e tanti strafalcioni che sono usciti con quella vecchia versione sono stati eliminati è vero che è storicizzata quella fa parte del periodo però io io lo vorrei vedere è come andare a cambiare poi nei film successivi la voce di Vader che tra l'altro è una cosa che a me non è neanche mai tanto piaciuta perché quando poi vai a vedere le produzioni più recenti dove hanno voluto utilizzare le stessi voci di Vader dei tempi è sembra Vader è un anziano quando in realtà stiamo andando indietro cioè stiamo andando in tempi vabbè è come quando becchi cavaliere dello zodiaco doppiati adesso quando c'è tipo le di Isabel che poi è la doppiatrice per quanto ci sia qualche errore io non non so se vorrei non so se riuscirei a riguardarlo con delle voci diverse allora voi in chat cosa dite su questa cosa io personalmente sono d'accordo con Thomas per me la fedeltà è la cosa che viene prima di tutto cioè mi dispiace sono d'accordissimo sul fatto della nostalgia che fosse anche un buon doppiaggio poi tolti gli strafagioni d'adattamento ma il doppiaggio era ottimo ma l'esempio che ha fatto Umberto dei Cavaliere è quello perfetto il doppiaggio dei Cavaliere è stupendo dei Cavaliere dello zodiaco ma l'adattamento è una merda dovrebbe essere rifatto necessariamente ancora nel 2024 ripropongono i Blu-ray con quell'adattamento lì l'hanno rimesso in chiaro tra l'altro su Prime su Prime sì però lì c'è proprio sì lì è proprio una differenza di certo quando sei a dicevorsi così con là dove si porta così cioè che poi Darth Fenner lo sai ma quanto volte è pronunciato in tutto il film lo senti sì 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 anche tutti gli altri nomi cioè tu lo sai che sono così ma effettivamente quando poi guardi il film li senti pronunciare tre volte in totale diciamo che non ci sono stravolgimenti di trama almeno cioè trovavi l'action figure però ma anche i droidi col titolo originale e tu dicevi ma come Vader ma no ma questo deve essere un pezzotto pensavi che era un pezzotto voglio dire no perché è un problema che non hai più oggi no oggi no oggi no l'unica cosa che tra virgolette adesso stona è quando uno li va a rivedere in fila ma questo ripeto fa parte di tutto quello che è star wars fa parte di una di una saga che è nata avanti da cent'anni praticamente nel senso che andrà avanti per cent'anni perché come dice Deadpool fino a 90 anni e che quindi è normale che si porti dietro tutte le cose dei tempi in cui è uscito cioè è un po' come anche quella cosa lì è un po' come andare a ricolorare i vecchi fumetti vi metterei a fuoco su questo discorso l'introduzione di Panini aspetta 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 qualche mesi fa ma non si vede ma non si vede perché è scritto piccolo però se vuoi vedere leggi dove si parla della principessa Leila Organa di Darth Fener e di Ian solo questo è uscito nel 2023 quindi hanno fatto hanno utilizzato l'adattamento degli anni 70 2021 ecco lì cioè va bene sappiamo che è così ma non è che dobbiamo per forza continuare cioè ok che è la storia classica degli anni 70 ma tanto lei comunque mi ha tradotto perché non credo che abbia usato le traduzioni della Crono di chi l'ha tradotto la prima volta perché se l'hanno lasciato così nel retro adesso io non ho quei volumi lì perché ho tutta roba vecchia di Star Wars però se hanno tenuto così nella nella descrizione dietro non ci giurerei che non sia così anche nella traduzione no no la traduzione è così ho aperto una pagina a caso c'è Leila allora vedi che non l'hanno cambiata la traduzione ma magari la traduzione l'hanno rifatta il punto il punto c'è la guerra dei quoti il punto qual è Steve che tu dicevi è come ricolorare un vecchio fumetto no però lì andresti a a modificare l'opera originale qui andresti a modificare un adattamento sbagliato sono due cose completamente diverse cioè non è che stai ritoccando l'opera dell'autore originale io sono a tua ricolorazione non me ne frega niente quando le colorazioni sono brutte se vuoi cambiarle per me puoi farlo basta che non perdi quella vecchia la roba deve essere figlia dei tempi in cui sono usciti sull'originale sono d'accordo di non toccarlo in quel caso lì gli errori fanno parte di quello che era Star Wars in Italia di quello che era Guerre Stellare in Italia vabbè comunque sono cose di poco conto se proprio vogliamo Jan invece di Jan tu che esperienza hai avuto guardarlo ora in blind più o meno no 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 allora sì più o meno più o meno perché ovviamente qualcosina di Star Wars la sai o a meno che non tu viva veramente tipo old boy però diciamo che la sua blind è tra l'altro una blind diversa dalla nostra perché inevitabilmente io Steve non lo so quando li hai guardati la prima volta che li hai visti erano già le versioni quelle originali o erano già le versioni con i cosini aggiunti ecco cos'è questa storia ti faccio un esempio grosso che si nota se guardi se tu vai nell'episodio 3 nella città delle nuvole e però lì dove ci sono i muri con il vuoto non c'erano mica era tutto chiuso quando all'inizio arrivano con Obi-Wan sullo speeder che arrivano per la prima volta nel porto di Tatooine ci sono gli animali vari che sono fatti in CGI e anche scene aggiunte tipo c'è coso cioè Jabba nel primo film non c'era in originale tu non vedi Jabba che parla con Han che gli dice che ti ripagherò il debito perché non erano in grado di farla ai tempi cioè non erano in grado di fare il finale dove compare il il fantasma della forza di 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 Anakin però giovane no mentre nella nella storia vecchia è l'uomo anziano che vediamo nel finale della trilogia insomma le esplosioni delle astronavi tutte rifatte se voi guardate la maggior parte se tu consideri le esplosioni dell'epoca erano queste esplosioni con questo scintillio strano tipo quando accendi il Bengala a Capodanno no? quelle cose che fa galassi roba degli anni 70 dei dei tokusatsu giapponesi con queste scintille così invece adesso le esplosioni hanno una forma sferica la maggior parte le hanno e credo che abbiano ritoccato anche la computer grafica di di alcune di alcune astronavi di alcune scene delle astronavi in generale per l'uscita della nuova tecnologia della tecnologia sea prequel lui rimise mano a tutto con la tecnologia che aveva il problema è che è invecchiato quella roba lì per poi fare per avere anche una sorta ma soprattutto c'è un'altra cosa maggiore fra le due trilogie cosa che c'è un problema vero in realtà che in realtà Han spara per primo in realtà Han spara per primo in quale scena aspetta all'inizio quando ammazza Grido l'alieno il cacciatore di taglie ah quello che va nel bar non è lui che gli spara no è Han che gli spara e lo ammazza è lui il solo che questa cosa infatti c'è il meme parlate una volta perché siete entusiasti però vi state accavallando vai vai Umberto vai 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 c'è il meme Han Shot First che è una roba che in internet gira molto e uno se non lo sa non capisce perché effettivamente davvero lui sparava per primo nella primissima ma ci sono tipo mille versioni cioè lo cambiavano di continuo questa cosa perché la polemica era che lui essendo un eroe non poteva sparare per primo certo ok quindi questa cosa era così nell'originale venne modificata con l'arrivare si vede che stava già arrivando politica ricorre pian pianino arrivava già l'onda della politica ricorre e quindi modificarono questa cosa qua ma c'era la gente che diceva io mi ricordo che lui sparò per primo e quindi nacque il meme tra virgolette perché i meme ancora non c'erano di Han Shot First perché lui eroe va bene ma è sempre stata una mezza canaglia sì era un po' il personaggio così anche un po' un po' anti-eroe anche l'eroe non poteva sparare e ammazzare qualcuno così per primo doveva per forza rispondere a un'aggressione ti posso raccontare la storia di questa? aspetta sentiamo un attimo cosa ne pensano i diritti ah sì sì no è vero ma prima vi dico cosa penso di questa cosa però della modifica secondo me un autore un regista insomma l'autore dell'opera originale può ritoccare tutte le volte che vuole però sarebbe bello se lasciassero disponibili le versioni originali uno magari si può può decidere quale guardare volendo o anche tutti e due non vuole è certo la sua opera cioè lui vuole che la sua opera sia quella sì sì ma è come Gonagai che ritocca Devilman mille volte e poi ti dice no l'unica versione che puoi commercializzare è l'ultima l'ultima a cui ho messo male quella cosa che ti chiesi pure a te in privato ti ricordi che delle tavole ho trovato le pagine che mancano nel manga di Mazinga Z che ogni volta togli, metti, aggiungi ma Tezuka faceva la stessa cosa e modificava mille volte le opere per me finché l'autore stesso a metterci le mani è sua decisione no certo certo ci mancherebbe quello sì però è un peccato sì sarebbe curioso vederle no io se non in vecchissime VHS o robe ci sono quelli che fanno i lavori di recuper però è un casino dalle VHS io infatti speravo che Disney una volta che si è comprata i diritti dicesse ma sapete che quasi quasi vi facciamo anche la versione così così e ve la vendiamo un'altra volta invece no non credo che non credo che Lucas lasci quello sicuramente forse le uniche si trovano magari illegalmente copie rip dai vecchi laser disc speriamo che quando muore Lucas magari Disney dice ma effettivamente tanto i diritti sono nostri sì sì se non gli lascia tipo alla famiglia sì comunque no ma i diritti sono di Disney adesso sono di Lucas ah Lucas zero proprio lui non Lucas team può ancora decidere ma proprio zero no credo che abbia passato 8 miliardi di euro però li ha venduti sì sì venduti sono di Disney chiaro cioè non è che nel senso poi non so però adesso è proprietà Disney nel senso non è che poi allora la Disney ha comprato non ha comprato i diritti di Star Wars la Disney ha fatto qualcosa in più ha comprato la Lucasfilm che era il contenitore che teneva dentro sotto anche Lucas Arts e Lucas Games che erano produttori anche di videogiochi che bello Secret of Monkey Island Indiana Jones e tutti quelli Disney ha detto una volta che faccio l'acquisto lo faccio come si deve hai fatto 30 un portafoglio cosa faccio lasci lì bisognerebbe bisognerebbe chiedersi perché The Secret of Monkey Island somiglia così tanto a Pirati dei Caraibi però non è che troppe domande troppe domande io immagino il signor Disney che si sente dire ho fatto tre etti e mezzo lascia e lascia metti tutto metti tutto non facevo polemiche su cosa di Disney assomiglia a cosa è meglio no no lasciamo stare 151 motivi per non parlare dai abbiamo già parlato troppo di quelle polemiche no allora io come mai ci ho messo tanto innanzitutto a vederli perché crescendo non sono stato un grandissimo fan della fantascienza ieri era un molti no però poi dopo diciamo vabbè è una space opera però è space opera che palle che siete questo gni gni non è fantascienza sì ok space opera è fantascienza comunque c'è poco da dire la scienza c'è comunque adesso è anche la fanta ho un po' delle merendine però scienza vabbè sì nel senso alla fine è un ibrido il macro genere è quello dai è fantascienza su comunque a parte questo non ero un grande fan ero molto 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 fissato con gli horror con film thriller con quel filone un pochino più anche i film alla seven quella roba lì e no ancora non l'ho vista Jotaro io per ora ho visto i primi tre e i due film sugli Ewok meravigliosi e poi quindi niente mi è sempre passato ormai c'è troppa roba da vedere perché io nonostante tutto ho sempre avuto questa fissazione che se inizio qualcosa mi piace proprio vedere tutto quello che c'è possibile soprattutto se mi piace e poi se mi faceva cagare ovviamente magari la lasciavo lì non si faceva neanche la live però siccome mi è piaciuto devo vedere tutto quello che c'è e quindi sono arrivato in questo in realtà l'unico che avevo visto forse era il primo film della seconda trilogia che mi fece vedere mio fratello se è quello che fanno le gare sì 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 è l'episodio 1 non mi sa anni fa per il resto non ho visto lui strada che tu non abbia continuato dopo aver visto quello non capisco come mai beh è una merda rispetto agli altri immagino rispetto agli altri non lo so non lo so vedi il giovane del gruppo calma no non è il giovane Jedi tutti a dire una merda una merda poi però quando è arrivata la vera merda no io preferisco la stella io preferisco i sequel dei prequel ma proprio a mani basse preferisci i sequel dei prequel ma di brutto ma di brutto questo volevo in live dai anche perché io a differenza della stragrande maggioranza della gente che su internet parla delle cose io le leggo le cose quindi so io conosco i fumetti di Star Wars cosa che ma non c'entrano un cazzo fumetti di Star Wars non c'entrano un cazzo e invece c'entrano di brutto vedi che non sai non c'entrano beniamata merda di come sono dei film dove torna litigate ma parlate una alla volta non voglio fare spoiler da Kirio quindi non farò e quindi e quindi mi è molto piaciuto mi sono molto divertito ma c'è un ma sono andato con l'idea con questo alone di leggenda che c'è intorno a Star Wars mi ci sono approcciato pensando di trovarmi davanti un qualcosa di molto più epico molto più complesso molto più leggendario cioè mi pensavo di trovarmi davanti una roba come per me poteva essere 2001 di San Nello Spazio invece mi sono trovato davanti un film per ragazzini alla fine molto leggerino dove non c'è questo grandissimo world building almeno inizialmente cioè ti dice non ti dice dove stiamo non ti dice in che epoca siamo non ti dice chi sono i vari personaggi se tu fai in una galassia lontana lontana esatto il più generico possibile ti introduce in un mondo che poi alla fine è ricco per carità è molto ricco di tanti elementi ma è un apposto posteriori eh no no ma infatti io ti dico l'approccio che ho avuto con il primo poi magari una volta che conosco tutti i film tutto quanto ti dirò diversamente però non ti dà subito quell'idea lì di lore incredibilmente ricca no perché non c'era non c'era ed è venuta dopo ma è venuta dopo all'esterno dei film questo è il fatto ed è stata poi inserita nella seconda trilogia perché tante cose sono assolutamente non conoscibili guardando solo i primi tre film una su tutte come si chiama l'imperatore se tu guardi la trilogia prequel e hai delle informazioni sai subito chi sono i personaggi se tu non hai letto niente non sai niente hai visto i tre film sequel e poi prequel tu hai un personaggio che tutti sanno che è l'imperatore ma tu non lo sai qui poi partono ci sono diversi punti da analizzare il primo che tu hai fatto a confronto con un film che ha fatto la storia del cinema e qui era un confronto generico scusa Steve nel senso come quello che mi aspettavo a livello proprio di epicità capito quando qualcuno mi chiede qual è il tuo film preferito io non risponderai mai Star Wars nonostante io abbia due avambracci dedicati a Star Wars perché Star Wars non ha un film che è veramente eccezionale cioè non c'è un film che tu puoi confrontare con 2001 che è veramente un caposaldo del cinema ma con tantissimi altri film ok cioè il mio film preferito è Matrix e io non direi mai che Matrix è uno Star Wars qualsiasi accidenti sono d'accordo con qualcosa su quello se possiamo avvicinarci a episodio 3 per il mio gusto personale ma so benissimo che quel mio gusto lì è anche influenzato da tutto il resto quindi su quello hai perfettamente ragione da nuovo da nuovo utente tra virgolette da nuovo visualizzatore non so come cazzo si dica a dire non ho trovato quell'epicità che mi sarei aspettato perché effettivamente quella viene dopo viene se tu fai la ricerca perché dopo lì c'è poi anche la leggenda che secondo me è assolutamente vera che non è mai esistito quello che è venuto dopo ai tempi della prima stesura cioè Lucas ha scritto insieme a grassa il primo episodio lui diceva di aver scritto i primi tre insieme però perché ci sono i libri in realtà e guarda che i libri sono usciti prima del film e lì un po' di cose in più c'erano in realtà per cui non c'era tutto no tutto quello che c'è no il libro teoricamente uscito prima dovrebbe essere basato sul copione di Lucas sicuramente il film è stato pensato prima il libro è uscito prima del film ma in realtà è stato fatto dopo il film cioè nel senso o comunque contemporaneamente sì però è basato sul copione del film sì 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 le due trilogie sono figlie di due momenti storici differenti l'altro giorno io ho risposto a una persona su Instagram che si lamentava dell'incongruenza di Ritorno al Futuro e uno di questi diceva ma perché all'epoca la gente non si non si lamentava di questo uno perché non c'erano i social ma il motivo vero io gli ho risposto che gli ho detto perché erano gli anni 80 e la gente si godeva le cose senza farsi troppe pippe questa è la verità negli anni 80 mentre negli anni 90 la seconda trilogia è molto più descrittiva ragazzi io mi ricordo speciali interi su Tifusoresi e Canzoni dove Lucas ci raccontava e ci spiegava anche il funzionamento dei motori delle astronavi che ci stava presentando quindi fantascienza durante durante quindi noi come funzionava il motore del Millennium Falcon quindi sono dei Mecca non ce ne frega beh lascia stare non ce ne frega niente di come funzionava il motore del Millennium Falcon invece nella seconda trilogia i tempi erano cambiati la gente si faceva molte più domande allora ci hanno spiegato la tecnica ci hanno spiegato come nascono le spade laser come venivano forgiate eccetera eccetera cosa che a noi nella prima trilogia voi vogliamo vedere la gente che combatteva con le spade che saltava con le capriole la forza i laser che sparavano questo è quello che volevamo vedere noi punto non c'era altro è il problema che cambia i tempi e non solo più lì loro dovevano recuperare quello che nel frattempo è stato fatto cioè non puoi ignorare tutto quello che è stato creato nel mezzo in questa nuova creazione che tu stai andando fare e quindi hanno dovuto anche raccogliere iniziare a raccogliere un po' di roba e iniziare a buttarci da dentro ed è qui che secondo me viene fuori la vera tornando ai discorsi che faccivi tu la vera epicità e il vero punto forte di Star Wars che è la galassia cioè è tutto l'universo che si è creato intorno a questi tre film cioè io non smetterò mai di dire ma ne parleremo quando vedrai poi la trilogia Sprequel che tutta la cosa migliore che sia mai stata fatta nell'universo di Star Wars è la serie di Clone Wars che è quella assolutamente d'accordo smetterai un po' a vederla però tutto quello che viene messo in mezzo nella guerra dei cloni e approfondisce anche la figura di Anakin approfondisce benissimo immaginabili che si possono essere messe nel mezzo e infatti ad esempio io Anakin che l'avevo sempre sentito nominare chissà nel primo nei film cosa si vedrà cosa si sentirà poco e niente non esisteva neanche Anakin nei primi tre film no si sente nominare nel senso sì sì e quindi per me è tutto quello che hai detto ma la cosa più importante che questa cosa bisogna che te la ricordi tu andando avanti nella visione e questa cosa bisogna che se la ricordasse anche molta gente che si professa fan era che erano film per bambini esatto certo e questa è una cosa che io non smetterò mai di ricordare alla gente che guarda roba come Andor e dice ah questo è Star Wars no vecchio no questo non è Star Wars questa è una serie drammatica ambientata in Star Wars ambientata nell'universo di Star Wars Star Wars per essere tale e sembra che tutti se lo siano dimenticati specialmente chi sta producendo le nuove robe di Star Wars a parte Filoni è che Star Wars è diventato quello che è per la sua leggerezza certo sì quello che ti dicevo prima no erano altri tempi più leggeri ma questo ma quello in realtà c'è anche nella trilogia prequel cioè non lo troviamo solo nella vecchia classica la troviamo anche nella trilogia prequel che è il giardino bellissimo come il giardino il tanto è ma il tanto il tanto bestemmiato giardino era la parte comica era la parte leggera la parte bambino che portava Star Wars che non può mancare che nella prima trilogia c'era la ciubacca no un po' che era un po' una parte più più ciubacca ciubacca che ci sono dimenticati completamente dalla questione Disney in poi che è arrivato solo con Grogu dai qua quando hanno messo le moto i motorini i motorini dei Power Rangers in coso che vanno a due all'ora e fanno lì in seguimento li faceva molto ridere sì quello fa ridere però per il senso opposto quello si è che è tocusazzo va mia quello lì vabbè qualcosina hai detto tocusazzo c'è già insomma qualche vibes al lato tocusazzo diciamo che anche certi tocusazzo hanno preso un po' di ispirazione però è certo però se credi quando usciva i tempi ti rendi veramente conto di quanto cazzo erano avanti ragazzi però considerate considerate che gli anni 70 in quel periodo era esploso assolutamente la febbre degli UFO gli anni 70 sono stati un decennio dove lo spazio era la spinta del 69 dello sbarco sulla luna ed era questa visione così forte verso il cielo e doveva insomma pochi anni prima era uscito Star Trek esce la storia di Dune che aveva cambiato la fantascienza spaziale diciamo ricordiamo come era il vecchio Dune il film è dell'84 sì però la storia è antecedente tanto è vero che per un po' il primo a trilogia è stata anche accusata di aver peso spunto ecco in qualche modo qualcosina è stata copiata ma un po' alleggerita ma la verità è un'altra che dal 77 in poi si svegliano tutti perché poi escono una serie di prodotti di fantasy fantascienza chiamatelo come volete Star Trek si ricorda che c'è il cinema quindi realizzano il primo film di Star Trek il 78 l'anno dopo e lì nasce questa specie di dualismo con quelle divise ridicole perché Star Trek nasce come serie televisiva sì del 66 però arriva nel 78 esce il primo film ma è dietro la spinta di Star Wars Star Wars ti dà una spinta baurosa a tutto quello che è diciamo quando fai un successo del genere tutti gli altri poi ci provano chiaro il problema è che dicevo vai a vedere cosa è uscito in quegli anni e quando ti rendi conto che a livello di effetti visivi Star Wars era almeno un decennio avanti ma almeno perché c'era la Industria Light & Magic quando vedi quando lì capisci veramente il lavoro che hanno fatto con l'Industria Light & Magic sì che da quello che ho capito però nasce con questo film la Industria Light & Magic proprio cioè non è che era una posta per fare no no è stata creata è Lucas che l'ha creata esatto esatto fondata da lui proprio per fare questo film e tuttora forse è l'industria migliore per quanto riguarda gli effetti visivi e sonori direi di sì volevo prima dirvi questa cosa di questo qui che nel 1986 quando sono andato a trovare i miei i miei cugini negli States c'era il caro Fabrizio Bilotti che era un ingegnere che aveva lavorato alla parte manuale della creazione dei dei modellini quelli statici quelli che si vedono dalle riprese dall'alto e me ne regalò uno che proprio lo conservo gelosamente da 40 anni ho perso dei pezzi qua c'era un vetro che copriva e tutto il resto e insomma sta sulle mie scrivanie nei vari case che ho cambiato sempre al primo posto perché lo conservo come una sacra reliquia giustamente quindi mi stai dicendo che è un modellino originale quello del film è un modellino originale del film sì 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 assolutamente sì che figato aspetta che voglio vederlo ti metto un attimo per vederlo lo faccio vedere guarda qua non c'è niente di particolare perché questi qua avevano la ripresa dall'alto sì erano quelli usati giustamente colorati anche piuttosto spartani anche spartani perché non doveva quelli là grandi erano altra roba però insomma io l'ho conservato sempre con grande con grande attenzione non proprio con grande attenzione perché ci giocavo vabbè certo certo tra i pochi giocattoli che sono riuscito a tenere della mia infanzia ma quello senza le braccia i pugni a razzo si perdevano sempre è lo stesso discorso è lo stesso discorso che faccio io ogni volta che vado su ebay e vedo la roba di sailor moon che magari avevo pure io alcune cose che la vedo a 2-300 euro venduta nella scatola originale e io ci giocavo le lanciavo se avessi conservato questo completo di tutti i pezzi attualmente vale 4.500 euro però devi averlo perfetto così non vale un cazzo quindi me lo tengo sul codino a saperlo a saperlo no però i masters li avevo tutti le prime cose dei masters le avevo tutte ma anche i cavalieri dello zodiaco alcuni valgono un pochino se tenuti i cavalieri dello zodiaco quelli lì ce li ho quasi tutti i cavalieri d'ora non perfetti ovviamente perché ci giocavo certo essere figli di ricchi borghesi milanesi paga diciamo no da questo punto di vista da bambino ero abbastanza fortunato per cui avevo un sacco di cosine anche se ho i miei punti di odio tipo che non ho mai avuto Eternia io questa cosa odio i miei genitori il galeone me lo sogno ancora la notte voglio dire io ho il galeone lego quello della lego dei pirati molto bello ce l'ho ancora in realtà ce l'ho montato in armadio vabbè io non ho mai avuto il non il grande tempio però quello del torneo dei cavalieri dello zodiaco ma perché non lo vendevano quello c'era il che si poteva vincere il concorso che mandavi la foto astardi e lo mandavano da Yamato lo aveva lo faceva cagare si si lo so lo so l'arena esatto no comunque mi ricollego a quello che ha detto Steve perché la penso uguale sul fatto che effettivamente bisogna sempre contestualizzare e pensare che era un film per bambini ma anche nella storia almeno il primo soprattutto mi ha dato quell'impressione perché se ci pensiamo c'è c'è Luke Skywalker che è il classico eroe proprio classicissimo eroe che parte quasi quasi per caso insomma li cascano questi due droidi che in qualche modo lo portano poi a vivere l'avventura va a salvare la principessa e quant'altro e parte per l'avventura in base alla sua sorella è proprio una vera pomiciata da un bacino a stampo più o meno ma poi lei lo bacia ogni tre per due anche prima quando si devono buttare con la corda che sono dentro la morte nera per passare da una parte all'altra secondo me non avevano ancora deciso questa cosa per cui meno male che alla fine abbiamo fatto solo qualche bacino così esatto non è niente di che si danno un paio di baci tra l'altro uno per palesemente per fare ingelosire Han quello quando lei è sul letto no lui è sul letto Luke si 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 bella base ma è fatta a posta chiaramente chiaramente e quindi c'è proprio la classica avventura con tanti cose che trova sul suo percorso ovviamente poi per arrivare alla classica cosa risolutiva finale con quello che è suo padre perché questa è una live ovviamente spoiler dato che parliamo nel senso ma a proposito 50 anni non possiamo anche adere lo spoiler la leggenda la conoscete l'avete visto il documentario sulla leggenda di questa cosa della scena finale io sono tuo padre si che Lucas Lucas praticamente per non far spoilerare all'esterno questa cosa siccome c'era la maschera all'attore fece dire un'altra frase e poi fu doppiata con la voce di un altro dove dice no io sono tuo padre perché sempre lui che la doppia lo fa dopo quando per non far venire fuori la cosa tramite l'insight sì che è uno che è uno della troupe magari esatto lo spoiler infatti lo sapevano tipo soltanto Mark Hamill su Netflix su questa cosa proprio dove ne parla proprio l'attore tra l'altro Prowler recentemente scomparso il gigante che faceva Darth Vader cioè Prowler era la persona era la voce sì esatto perché c'era no perché c'era una vocina di merda quello che faceva l'attore perché Prowler si lamentò proprio del fatto che lui era doppiato sempre e soprattutto si lamentò che quando doveva vedersi la sua faccia non gliela fecero vedere e anche questa storia qui c'è proprio un documentario dove lui racconta questa cosa è veramente interessantissimo c'è su un documentario che hanno fatto uscire poco dopo tempo che era morto su Netflix forse non mi ricordo l'ho visto sì su una piattaforma l'ho visto perché io ne sto guardando un altro su Disney Plus non mi ricordo il titolo che dura due ore e mezzo tipo l'ho visto un pochino prima della live però non ce l'ho fatta a vederlo tutto perché pensavo durasse un'oretta ho detto me lo guardo prima della live no due ore e mezzo ma a proposito di leggende qual è la frase più leggendare più famosa di tutto Star Wars una frase che ognuno conosce anche chi non ha mai visto Star Wars cioè è quella no io sono tuo padre ok è no io sono tuo padre sì la gente ce la ricorda come più che io sono tuo padre no perché c'è tutto il preambolo che lui mi dice Yoda Yoda te ha parlato di tuo padre lui risponde sì mi ha detto che tu l'hai ucciso e lui risponde no io sono tuo padre però sì che la forza si è con te anche sì vabbè che la forza si è con te anche no però per me quella è uno dei Mandela effect più sconvolgenti quello Mandela effect esatto del ma perché io prima di aver visto Star Wars appunto che l'ho visto quest'anno un paio di mesi fa ho sempre conosciuto quella frase lì Yuki io sono tuo padre perché la dice la gente la dice così ma tutti sì ma anche i fan di Star Wars io ne ho sentiti tanti dire quella cosa lì insomma va bene va bene il vostro preferito come direi che sono quelle due lì che la porta sia con te sì 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 no ma io volevo farvi dire più che altro la prima per vedere se cadevate nel esatto nel Mandela nel Mandela effect invece no invece no qual è il vostro preferito tra i primi tre il secondo anche io pensavo il secondo forse l'impero colpisce ancora forse forse il migliore in assoluto di tutte di tutte e sei addirittura tu dici dei primi dei primi sei quindi sì per me no però l'impero colpisce ancora perché è giovane uno di quelli che si lamenta perché la legge la profezia adesso a parte tutto a livello proprio filmografico fra episodio tre ed episodio sei no cinque è una gara dura poi io sarò figlio episodio cinque è bello ragazzi episodio cinque è un filmone però per me episodio tre è veramente un signor film tu lo sai che all'epoca non erano ancora nominati così un vecchio nerd ventenne che cammina nella regia di caserta in mezzo al set con George Lucas che fa le riprese dentro il primo film della c'eri? sì sì assolutamente ma nel senso ci sei come comparsa? maledetto no 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 c'era c'era il compare di papà che lavorava lì e riuscì a buttarmi dentro e a guardare da lontano il set mentre faceva le riprese qual è che c'è la scena nella regia di caserta? tutta la parte su Naboo tutta la parte di Naboo in più di caserta e quant'altro hanno utilizzato ragazzi nel videogioco Battlefront 2 i render che hanno fatto all'epoca nel 99 perché devi sapere che il nostro ministero ha venduto diciamo tipo per 80.000 euro l'uso perpetuo di sta roba cioè regalato praticamente assurda e Disney ci ha fatto un videogioco dove c'è un livello intero ambientato dentro la legge di caserta una volta fatto molto bene e beh sì per 80.000 euro ce ne avevano guadagnati 80.000 milioni aspettate che c'è Pignola che ci dà 10 bits di tutti i 6 film di Star Wars perché sono solo 6 non ce ne sono altri i primi 3 restano i più ispirati secondo me siete d'accordo? anche per voi gli ultimi 3 no eh immagino che comunque saranno i gusti con tante cose così immagino lui intenda 4,5,6 non 1,2,3 sì i primi 3 se si va in ordine cronologico di uscita tra l'altro ecco volevo chiedervi anche quello poi eh no dimmi Steve dimmi no 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 non lo so non lo so non lo so faccio fatica a scegliere tra cuore e cervello e perché io sono cresciuto con la teologia certo da fare questa cosa qua è inevitabile cioè a seconda di dove hai iniziato assolutamente inevitabile a meno che non arrivi un ragazzino dei tempi di oggi e mi dica che la teologia sì quella è meglio allora a quel punto viene massacrato di botte finché non cambi idea ma secondo me è possibile il problema è che oggi è più difficile che crescano con i film è vero per cui c'è questo problema adici più le serie magari cose così ma lo vivi anche in modo diverso perché sei ultra mega esposto a decine di migliaia di robe per cui magari il film l'hai visto ti è piaciuto ma poi torni a casa e passi 8 ore al telefono poi guardi altre 72 serie 72 film e quindi è difficile focalizzarsi secondo me come ci focalizzavamo ma al di là di quello io non studiamo da piccoli abbiamo riguardo in generale i film adesso io stesso non riguardo nulla da anche io le serie sì io le serie le riguardo sto riguardando questa cosa è arrivata a fine primi anni del 2000 c'era il lunedì film anche sulla Rai dove c'era il filmone che tu potevi vedere magari io mi ricordo Alien l'ho visto così l'ho visto sulla Rai non l'ho visto il cinema anche io Alien l'ho visto io penso di averlo visto addirittura su Tele più forse no io l'ho visto negli anni 80 sulla Rai però sì questa cosa generazionale secondo me con Star Wars c'è molto ed è bella anche in realtà se rimane nei limiti poi divertete scherzare prendete per il culo ovviamente quelli che però dall'altro lato penso cerco di pensarla anche solo a livello di proprio filmografia di proprio arte cinematografica e faccio comunque secondo me comunque la guerra dei cloni e il Revenge of the Sith sono due filmoni della Madonna adesso poi li vedrai ne parleremo no no chiaro 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 ci sta meglio del primo sicuramente il primo Madonna la sconeria del mio telefono io ce l'avevo quando usavo le suonerie quando chiamava mia madre esattamente pur io questa è la cosa personalizzata di mamma ci sarà un perché voglio dire il terrore il terrore ma hai letto? cosa? la madre era in Volt che è una serie molto divertente che pubblica sì quello della fumetteria la madre è Darth Vader sì sì grazie dei dieci Pignola gli episodi 7,8 e 9 anche prendendoli come film sono mediocre come tre guarda comunque ne parleremo la prossima volta perché andremo appunto in saga per saga quindi la prossima volta parleremo anche quella dopo ancora il fogone di 7,8,9 ah sì quella dopo ancora che lui parla degli ultimi tre io mi sono commosso tre volte sull'ultimo film io dico solo questo pensiamo a te ok io era così eh che poi a proposito di Lost vedo che c'è due volte al cinema mi sono trascinato non è una mia cosa che ero in giro con degli amici che mi fanno andiamo a vedere il terzo cioè episodio 9 ma ero già visto eh vabbè vieni ma sì dai riguardiamocelo soprattutto il 9 vabbè comunque beh non sarei andato a vederlo due volte al cinema è di mio solo che ero in giro con questa gente la scena finale all'Avengers ti è piaciuta ma non parliamo di scene finali soprattutto è stato uno dei momenti di commozione già non dobbiamo parlarne in più scene finali dimmelo un po' le settimane prima che io inizio a caricare la merda da dotare il 6-7-8-9 ci arriviamo ci arriviamo faccio re-watchione di 7-8-9 di seguito mi stacco una palla di fare un re-watchione di 7-8-9 sono gli unici che non ho in blu ray allora ci arriviamo ma piano piano perché io prima anche della seconda trilogia devo guardare anche Ewoks la serie animata e Droids la serie animata no che palle quello non ho mai visto neanche io io capisco guardare tutto ma non ho proprio tutto 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 potevo rimanere offeso un altro grande merito di Star Wars è stata che poi grazie a Star Wars è venuto fuori ecco quello l'ho visto da tantissimi anni uno dei film parodia più belli di tutti i tempi io Balle Spaziale l'ho visto tre volte di seguito una volta 50 volte non so a memoria non hai mai visto Balle Spaziale? sì è stupendo ma non mi è mai piaciuto no ma non è possibile non lo so lo dicono tutti ma io non ce l'ho mai facendo mi ha mai fatto ridere io lo so credo di saperlo a memoria anche io tanti film del genere ma tutti praticamente tipo l'aereo più pazzo del mondo una pallotta una spuntata che stanno pazzisco con l'aereo più pazzo del mondo tutti quelli di Leslie Nissen tutti tutto ma quello perché questa comicità è simile passate al petto nel deserto c'è la donna ragazzi non mi fa ridere non mi fa ridere non ho trovato le stesse cagate di Leslie Nissen non ce l'ho mai fatta e io lo adoravo prima di aver visto Star Wars quindi immagino che dovrò rivederlo ora apposta Star Wars va bene alla fine cioè ci sono le battute però alla fine è più visivo sì 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 per culano un sacco proprio tutta la fantascienza di quel periodo anche pieno di scimmie devi sapere che mio padre è stato il secondo cugino del compagno di stanza del nipote questo cosa comporta per loro assolutamente niente ma o vedo che il tuo sforzo è grande come il mio oppure quando c'è quella scena che il film si registra sulla VHS nel momento in cui sta avvenendo e loro riescono a riavvolgere un pezzo del film mandando indietro sta cassetta quando il prima sarà adesso presto infatti me lo ricordo come è meraviglioso ma volevo farvi un'altra domanda invece a proposito di quello che stiamo dicendo adesso voi consigliate l'ordine cronologico di uscita che è quello con cui li sto guardando io o l'ordine che vedo che va anche non dico per la maggiore però che molti consigliano ovvero quella della cronologia della timeline dell'opera secondo me no perché prendi una botta terribile perché comunque sono film moderni anche già la prima trilogia se tu ti guardi la prima trilogia che è moderna anche come è recitata come è girata e poi ti fai il salto ai primi tre e lo noti ed è pesantino cioè è vero però già anche a livello a livello proprio di narrazione anche se tu parti dei primi tre è troppo lineare cioè tu arrivi in fondo che sai già tutto non c'hai neanche la cosa della scoperta lasciano dire che le cose le sai comunque ok perché ormai è impossibile non saperlo che Vader è il padre di Luke però comunque viene raccontata in maniera diversa poi c'è un sacco di errori è bello questa cosa tu sai quella roba lì per poi tornare indietro e vedere cosa lo ha portato ad arrivare così ma soprattutto lo dicono anche in chat se tu ti vedi prima la trilogia primo, secondo e terzo episodio ti spoileri il finale di episodio sei no la parte è perché già sai tutto cioè diventa quella parte divertente della tua anche se ormai chi è che non lo sa però uno che viene da Venere cioè magari non ricolleghi lì per lì che non sai cioè non capito però boh per me è più brutto c'era chi diceva che se volevi il finale contento li guardavi in ordine di numero quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 se volevi il finale triste li guardavi invece in ordine d'uscita ok perché effettivamente è così anzi io non voglio sapere di più comunque beh lo immagini visto come inizia il primo non può finire proprio in un mega happy end l'episodio qua 6 3 perché poi c'è l'impero secondo me non ha soprattutto poi se l'hai già visto lo guardi come cazzo ti pare proprio certo ti perdi tanto cioè a livello emotivo secondo me ti perdi tanto ecco magari uno se vuole fare un rewatch secondo me può farlo in ordine di timeline sì quello sì dopo ha più senso una volta che ti sei visto i tuoi colpi di scena è tutto allora te lo guardi anche in quel modo però come prima volta secondo me è sempre consigliabile fare l'ordine cronologico di uscita anche perché sono usciti così banalmente che figata quello che dice pignola pignola curiosità su Star Wars 4 però lui parla ancora del 4 è fissato l'ultimo uomo ad essere condannato ah il 4 scusami sì è giusto io vado ancora quindi il primo sarebbe ok molto probabilmente l'ultimo uomo ad essere condannato questa cosa non è che sia una novità è guarda che era già così cioè se tu guardi i titoli iniziali c'è sempre stato episodio 4 5 6 no io ho letto nel 2 nel 3 6 e 7 sì 5 e 6 c'erano prima dei prequel quando no ma già prima che uscisse 5 e 6 la prima arrivata la prima venuta al cinema di Star Wars era Star Wars quello sì Star Wars ma pure ma pure l'impero colpisce ancora no ma c'erano i numeri io me li ricordo io so di no cinema no cinema no quella cosa lì credo che la dica anche in le guerre di Lucas la prima uscita al cinema proprio la primissima uscita al cinema non c'era scritto nessun episodio subito dopo quando fece quindi in VHS no 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 proprio la prima uscita al cinema dopo non so se con l'uscita in home video o già quando ancora era al cinema non mi ricordo se lo racconta nello specifico nelle guerre di Lucas o se lo accenna solo o se lo accenno da qualche altra parte tipo in l'effetto E-Man no ma lo dice anche nel documentario che sto guardando io la prima volta non avevano i numeri la prima non aveva venne aggiunto cioè i primi tre quando proprio decisero di fare anche gli altri due e quindi misero episodio 4 e poi dopo ci fu 5-6 ma io avevo capito che neanche 5-6 avevano il numero la prima volta io quando li ho visti sono sempre stato 5-6 quanto meno poi non c'era una nuova speranza ovviamente la guerra stellare 5-6 c'erano ok quindi è solo il primo che non sono il primo che uscì direttamente quando l'ho visti io invece non c'era i primi anni 80 cioè proprio io ho visto le prime uscite di tutte e tre e non la ricordo la numerazione cioè o magari in Italia non l'avevano portata non lo so questo non lo so però cioè se c'era il numero 4-5-6 significa che nell'84 Lucas aveva già deciso di fare quello che aveva deciso ma l'idea è che fosse una storia già in corso cioè una volta che lui ha deciso di fare il sequel dopo ha buttato giù tutto dopo ha buttato giù tutto ma ragazzi ma il sequel è del 99 cioè il pregole del 99 ha aspettato di avere la tecnologia necessaria per poter fare quegli altri film che altrimenti non avrebbe potuto fare e quindi ha voluto aspettare che arrivasse la tecnologia adeguata per poter fare quelle scene che lui voleva fare questo è quello che si racconta forse nessuno saprà mai la verità io forse c'è un effetto Mandela che può essere però non me li ricordo i numeri no beh beh ma spesso succede cioè anche le serie di Jojo che ora tutti conoscono con i sottotitoli all'inizio non ce l'avevano quei sottotitoli lì cioè Stardust Crusaders che la roba lì è stata messa dopo eh in Jojo prima è uscito come Jojo semplicemente ah beh sì quindi io ce li ho ce li ho visti stamattina stavo guardando sto cercando ma coso Trigan ma non so dove cazzo li ho messi i primi due volumi di Panini ah ce li hai ce li ho da qualche parte ma non so dove quindi prima che scavavo ma non li ho trovati fatemi leggere Pignala a qualità su Star Wars episodio 4 molto probabilmente l'ultimo uomo ad essere condannato a morte in Francia tramite la ghigliottina aveva visto il film iniziale perché è stata abolita ben dopo l'uscita del film non ho capito io questa cosa è un tema è un tema sociale è stata tolta dopo che è uscita la morte episodio 4 dal cinema cioè quindi negli anni 80 ancora c'era la ghigliottina che impressione a pensarci grandi francesi li ho appena rivalutati ghigliottinata quando ghigliottinata tra l'altro neanche la sedia elettrica ghigliottinata quando al cinema c'era questo mi fa molto ridere vabbè sì c'è di sotto vestiti come nell'800 è stata chiusa è stata eliminata nel 1981 la ghigliottina mentre usciva l'impero ero nato io quando ancora si sono guardati al cinema vabbè ci sono ancora paesi con la pena di morti oggi quindi insomma comunque la ghigliottina guarda che è bella c'è nel senso è la ghigliottina che fa old school sì 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 no no certo fucilato che diceva beh gli sparavano fai sei abbastanza sicuro che chi viene ghigliottinato muore effettivamente non ti crederei perché non è detto se si incastra madonna 1792 1792 1981 ininterrottamente in Francia è stata la pena capitale quella tagliamo una testa sì sì domani i francesi su queste cose non hanno mai visto mezza misura no 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 loro erano la preferita assolutamente quindi immagino che a livello emotivo sì ci sarà qualche parte che anche se a livello emotivo eh un po' di emozione sì sì no no in tutte e tre in realtà a livello emotivo mi piace molto l'amicizia che si crea tra i tre protagonisti a me alla fine in più devo dire che è piaciuto molto il personaggio di Leia o Leila come che dirsi voglia Leia perché veramente penso che per quegli anni lì forse super non dico rivoluzionario forse anche un pochino però era una donna con due controcoglioni proprio e soprattutto anche lì quando arriverai a episodio 7, 8, 9 mi sembra la vera differenza tra costruire un bel personaggio donna forte e fra volerlo forzare in bocca alla gente ah questa è una ragazza forte protagonista ricordati di com'era Leia ciao siamo le ragazze della Marvel allora ti aiutiamo noi quello in realtà quello era ancora grandi cose ragazzi ma Leia quella scena quando l'ho vista al cinema era lì così 77 arriva Leia poi arriva nel 79 una certa Ellen Ripley e nell'84 arriva Sara Connor che sono tre icone di 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 emancipazione Sara Connor nel terminetto 1 non è che sia così tosta eh diventa tosta nel 2 nel 2 sì anche anche Sara Connor e la Ripley sono toste fisicamente cioè sono toste a livello di forza proprio sì lei è proprio nel però non solo cioè nel senso comunque adesso Ripley se pensi alla Ripley di la Ripley di 2 e 3 effettivamente la Ripley dell'1 effettivamente è molto più deve sopravvivere però è tosta però non è tipo col mi trovano gli uno in mano eh la cosa bella di lei ai tempi era proprio che si vedeva già che era aveva la stoffa della leader cioè era capace di guidare la ribellione sì esatto sì quello che penso anche io come Mon Mothman l'unica altra donna della galassia diciamo a livello fisico era una pippa sì però comunque anche se era una pippa a livello fisico quando c'è da prendere il fucile e sparare lo fa quando c'è da buttarsi da qualche parte si butta però era proprio forte a livello caratteriale sì sì non gliela facevi sì sì cioè se si deve mettere a pilotare una nave se ci si mette capito è proprio quando io io pensavo alla principessa lei prima di vedere il film sarà una di quelle che loro devono prendere tipo la principessa di super mario insomma quella che si vede alla fine che è stata salvata chi si è visto si è vista no no lì è parte attiva del trittico proprio centrale dell'opera e anzi personaggio bellissimo secondo me veramente che come diceva Steve non era forzatamente emancipata era emancipata perché lo era perché volevano far passare il messaggio che lo fosse e infatti l'attrice poi dice che lei era così nella vita anche era una molto grande opera di casting volevo dire in generale cioè lì lucas ha fatto un'opera di casting in tutti i personaggi e della scelta ne aveva perché la scelta ne aveva fior fior c'è la carterasse che aveva fatto anche i provini ho visto ha preso su gente che non contava un cazzo a parte Harrison Ford che ai tempi poi in realtà contava ancora poco e niente e che non voleva all'inizio Harrison Ford perché già era un minimo conosciuto lui voleva tutti sconosciuti inizialmente e fece un opera di casting impressionante obiettivamente impressionante cioè ora beccare degli attori così dal nulla che possono avere un imprimere così dei personaggi non è facile la cosa bella di Star Wars era che Lucas aveva proprio ce l'aveva in testa aveva un'idea ce l'aveva ben fissa non erano quantomeno poi dopo ripeto le opulissono le varie teorie speculazioni 5-6 sicuri che l'ha fatto per forza però quantomeno quella del 4 lui ce l'aveva lì cioè lui quell'idea lì ce l'aveva e così la voleva ha rotto il cazzo sugli effetti speciali ha rotto il cazzo su 254 cose mettendosi la zappa sui piedi da solo innumerevoli volte e non ci credeva nessuno facendosi odiare da chiunque mettendosi in banca rotta qualsiasi cosa è nata conto ma lui quell'idea lì ce l'aveva non gli puoi dire un cazzo e infatti da quando lui se n'è andato la roba è nata in merda con una persona sola che sta capace di capirlo per il momento come l'ha capito che è che sarebbe che cosa ha fatto è colui che ha prodotto tre quarti delle serie nuove le serie animate Filoni era quello che c'era dietro a The Clone Wars insomma è dietro le produzioni di tantissima roba prima ancora Mandalorian c'è pure lui Mandalorian c'è anche dietro Mandalorian ok ed è prima ancora era colui che ha creato Avatar The Last of Benders ok ok e anche lì serie animata che ha fatto la storia poco da fare eh non l'ho vista non l'ho vista devo recuperarla è bella il film fu un'occasione mancata perché secondo me aveva delle grandi potenzialità però è anche quella è una serie no me la guardo me la guardo la uso come paragone quando c'è da da confrontare l'animazione delle serie occidentali moderne odierne quando mi dicono che Invincible ha una bella animazione la prima stagione io ti dico fate a vedere gli ultimi episodi di Avatar The Last of Benders che sono usciti 10-15 anni fa adesso non mi ricordo di preciso sono migliori però in generale scrittura dei personaggi Filoni è molto bravo con i personaggi ah me la recupero volentieri quella l'ho sentito nominare spesso ha creato gli unici personaggi che sono diventati iconici negli ultimi dalla presa di Disney quindi Grogu il Mandaloriano tutto lui tutto lui che dicevi Thomas? stavi dicendo qualcosa prima? no stavo dicendo il fatto di Mandalorian sposta un po' sposta un po' il microfono scusami scusami mi fa un rumore strano stavo facendo un discorso sul fatto che dietro The Mandalorian ci fosse l'unica persona che in questi anni probabilmente ha capito bene la filosofia di quello che almeno diciamoci la verità una cosa dobbiamo dire anche da appassionati che all'inizio specialmente nei primi tre film un po' a vista hanno navigato cioè quello che è nato dopo nell'universo espanso di Star Wars fumetti romanzi videogiochi che è un po' tutto collegato perché alcune storie sono realmente canoniche è un universo che oggi non c'è niente canonico a parte l'unica cosa considerata allora ai tempi prima di Disney era tutto canonico considerato nell'universo espanso quindi era come se esistessero due canoni c'era il canone dei film e il canone espanso che erano i film e tutto quello che c'era attorno a meno che non si contraddicesse ovviamente se si contraddiceva una roba espansa e i film avevano ragione i film ok era una scusa per farlo diventare canonico in pratica non lo facevano quasi mai piuttosto si contratti fra l'universo espanso ma ovviamente succedeva perché poi l'espanso si è espanso un bel po' il problema qual è quando è arrivato Disney Disney ha detto è canonico i film Clone Wars e basta in quel momento e oggi in realtà tutto quello che esce è canonico quella è l'unica cosa buona che ha fatto Disney secondo me quello si ci sta però anche lì pare che si siano già si siano incasinati anche lì perché certe robe scritte nei romanzi poi sono state non esattamente corrette nei film non ho mai letto i romani no neanch'io io leggo un po' i fumetti cioè un po' ma non li ho letti tutti però anche lì esagerano perché c'è veramente tantissimo materiale da questo punto di vista cioè a livello di fumetto fanno un sacco di roba però i fumetti tendono a farli inseriti cioè nel in mezzo anche se hanno fatto la prima serie va tipo tra il primo e il secondo adesso la serie attuale che lo sia stato il secondo e il terzo film e cercano di riempire un po' i buchi e che è spiegato un po' quello che succede quindi di fondamentali non ce ne sono nei fumetti per esempio no ma il fondamentale niente cioè fondamentale è il film non c'è nulla di fondamentale fuori dai film e dalle serie adesso cioè fuori dalla roba a schermo non c'è nulla di fondamentale però nel senso se tu hai voglia di approfondire certo di approfondire ti piace Darth Vader c'è la serie di Darth Vader ci sono i volumi se li compra ci sono storie di Darth Vader ci sono tanti bei personaggi ma quello che di veramente figo era nei fumetti qualcosina lo stanno pian piano aggiungendo e nei romanzi perché in realtà o nei romanzi nei romanzi c'è stata la trilogia sequel originale di Tron che è quella sfida alla nuova repubblica e gli altri due romanzi io li lessi negli anni 90 erano fighissimi e in realtà erano i sequel tra l'altro l'unico vero problema è che i romanzi erano sequel non diretti dei film ma dai fumetti per cui c'erano un sacco di robe che tu non le capivi benissimo perché te le dicevano se ti davano l'input però io le ho letti anni e anni dopo perché c'è Dark Empire che è dove effettivamente scopre esattamente cosa avviene praticamente subito dopo e anche lì certe robe le hanno recuperate in modo diverso poi nei sequel del film penso che c'erano i figli lì hanno asciugato tutto però era molto più affascinante i finali cosa leggo cosa non leggo non ti senti va un po' a sentimento io ho amato ad esempio c'era Star Wars Legacy che era il futuro tipo 100-150 anni più avanti in cui c'era un discendente degli Skywalker che doveva combattere contro i Sith era tipo un motif questo no no era era adesso si è tutto Legends in realtà adesso lo vedi se tu hanno sotto la dicitura se c'è Star Wars e basta è canonico se sono invece roba vecchia c'è scritto Star Wars Legends e continuano a pubblicarli ovviamente perché la gente li ama esatto perché ovviamente da quando Disney ha preso tutto il franchise di Star Wars Disney ha anche Marvel e quindi hanno iniziato a pubblicare i fumetti sotto Marvel e quindi ci sono i fumetti non canonici che sono tutto quello che è uscito prima dell'acquisizione come per tutto il resto e poi ci sono i fumetti canonici che sono quelli usciti sotto Marvel dopo che Disney ha deciso sì ma nel senso sono canonici solo perché Disney ha deciso che tutto è canonico dopo sono canonici perché da quel punto lì in poi devono stare a quello che viene detto nella roba canonica ah ok prima per assurdo una delle serie più famose vedeva Luke fare un figlio sposarsi con una tipa insomma diverse robe ora non puoi più fare una roba del genere cioè non puoi inventarti un sequel di qualcosa non puoi fare un sequel di episodio 9 diciamo però diciamo però ragazzi che in un certo periodo in un certo periodo c'è stata una sorta di anarchia completa dove tante storie che forse oggi avremmo bollato come come fanzine come invenzioni poi a un certo punto venivano considerate nel calderone delle storie ma erano fighe fuori dal cane erano fighe erano belle l'unica cosa che ha fatto Disney è dire basta da qui in poi tutto il resto sono universi paralleli adesso c'è la roba canonica che diversi ci sia esatto multiverso e che ci sia dovuto impegnare un minimo anche nel fare questo non vuol dire che nella roba legend non ci sia roba bellissima perché ce n'è ok c'è diversa roba veramente bella però non c'è ma infatti secondo me il punto sarebbe semplicemente distinguere da cose canoniche cosa no però anche una cosa non canonica può essere fighissima adesso è così perché poi bisogna portare avanti tutto un tutto un cross mediale che se non fai così è impossibile da portare avanti certo talmente espanso una volta non c'erano le serie adesso hai anche le serie quindi c'è addirittura adesso hanno creato un'intera un'intera saga ambientata in un periodo nuovo tipo mi ricordo mai quanti anni sono che è l'alta repubblica e hanno fatto i fumetti i romanzi cioè c'era già finalmente hanno misato ma di accolite ambientate in quella periodo lì mi sa di se diacolite è andata molto bene perché è quello che hanno cancellato no hanno sapete perché perché era talmente bella che ti dico questo io fan di star una stessa talmente bella che me la stavo guardando mi è scaduto disney plus e non l'ha rinnovato veramente una merda che hanno detto molti hanno detto io la seconda stagione non me l'ha collaito quindi non l'hanno lasciata talmente male mentre a me io mi sono gustato abbastanza a Zoka e la carruccia ma pure Andor non è male Andor non l'ho guardata devo guardarla prima o poi quando rifanno molto lenta è un po' lenta non è ricoperarti anche le serie è ovviamente sempre tutto in ordine cronologico eh sì mica la prossima live la facciamo nel 2036 no la prossima la serie no allora ma adesso non hai capito perché ti aspettano sette stagioni di clone eh sì ti aspetta Rebels una quantità di roba adesso prima di arrivare alla fine del track non finisci mai no io però scusami allora io ho un ordine la preco e può guardarla scusa io ho un ordine cronologico che ho trovato è in mezzo tra 1 e 2 ma io non l'avete ancora in realtà è tutto in me cioè arriva fino l'ultima stagione è addirittura dopo cioè sulla finale del 3 scusa eh poco prima del finale del 3 la guerra dei cloni iniziata è che finisce un film da lì ti aspetta tu prima di arrivare a quell'altro film dopo eh no ma aspetta io però nella cronologia che ho trovato adesso ci sono i due film sugli Evox che ho visto poi mi dalle due cronologica va a lui lui va a cronologica di produzione non di non di uscita no lui tu puoi guardare in ordine di uscita di trama ah in ordine di uscita no di uscita dovresti vederlo in ordine di trama in ordine di uscita eh no cioè se non metto dovresti guardare i film è quello che abbiamo detto prima è il discorso che abbiamo fatto prima no però aspetta perché da adesso in poi tu devi guardare in ordine di trama da adesso in poi abbiamo fatto prima il discorso sull'ordine cronologico quindi prima di Eccolite l'ordine dei film è quello in ordine d'uscita ok ma se dopo se mi chiedi tutto tutto allora no tutti guardi 4 5 6 e poi da uno tutto in ordine cronologico ciao Alessandro buonasera no io guardo tutto in ordine cronologico di uscita non ce la farglielo fare come vuoi eh sì ma permetti primo ti imbarbagli ma perché una certa è perché per me dopo inizia a far fatica scusa tu dici quindi quelli che hanno visto tutto come è uscito non ci capiscono un cazzo allora no vabbè ci capisci dipende quanto ci vai dietro però ci capisci però secondo me ora ha senso più in ordine cioè da qui ha senso più in ordine cronologico no il cronologico è quello con cui lo sto guardando io se tu dici in ordine di cioè cronologico è l'uscita quindi in base all'uscita allora secondo comunque l'uscita io adesso dovrei vedere le due serie animate Ewoks e Droids madonna che palle ma non so neanche croniche quelle esatto tra l'altro ma mi attirano e poi ma sono ma sono tu risi dei plus quelle si no è dell'85 no è la serie quella vecchia con i droidi che ha capito in ordine di uscita cazzo droids no quelle robe lì poi anche satanese ci sono queste due e poi ci sono subito gli altri tre film quindi poi la serie degli Ewoks animata ma sono simpaticissimi ma sono i miei personaggi preferiti di Star Wars dai dai sette anni ma sono simpatici se non vado aspetta che non mi ricordo aspetta 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 The Clone Wars arriva dopo episodio 3 c'è il film animato poi la serie animata adesso cercarti anche gli episodi di Clone Wars quelli animati stile Samurai Jack che sono i primi che non sono più canonici quelli però erano molto fighi quelli forse non te li sei segnato ma poi ma io non me ne sono insegnati ho trovato tutto quello che è uscito quella è molto bella secondo me Clone Wars quella perché uscirono prima due film completamente diversi da tutto il resto di The Clone Wars che andarono al cinema poi in realtà il progetto viene resettato in realtà erano nati come episodietti brevi animati poi avevano fatto i due film montandoli tra l'altro gli Ewok sono quelli che hanno fatto fare la brutta fine anche a Mad Max cioè fondamentalmente quando videro che su Star Wars era tutto successo e quant'altro hanno messo i bambini venne esatto quella parte in Mad Max 3 con i bambini tutto quel villaggino che tra l'altro i fan di Mad Max odiarono tantissimo ci credo abbastanza abbastanza a senso sì ma anche perché i bambini che restano nei due film degli Ewoks sono due cani quindi sono veramente pessimi anche quei due film tanto sono fuori canone non sono su canone ma sì ma è chiaro ma si capisce abbastanza ovviamente carino ho fatto un po' fatica un pochino un pochino di fatica l'ho fatta effettivamente c'è tipo la strega nel secondo non lo del genere non mi ricordo la prossima live la facciamo prima di Clone Wars la serie o dopo la prima la prossima live sarà su episodio 1 2 e 3 e le due serie animate Ewoks facciamo parlare di 1 2 e 3 senza parlare di Clone Wars viene male eh ho capito ma se parliamo anche di quello viene una live di 86 ore però giusto benissimo eh facciamo eh magari facciamo quella solo su Clone Wars se mi dite che è una cosa di cui si deve parlare tanto ragazzi probabilmente è azzardo dire sta cosa qualcuno non l'accetterà ma è molto probabile che Clone Wars Clone Wars in assoluto forse il miglior prodotto su Star Wars di sempre la serie per me lo è ok senza ma non ce n'è senza si senza ma lo è in assoluto questa serie però quindi quando arriva perché io qui sto vedendo film animato e serie animata di Clone Wars perché tipo c'è cosa ti sei segnato qui prima cioè dopo i tre film perché The Clone Wars la serie inizia con un film no con un film animato sì ah ok del 2008 io vedo infatti il 2008 film animato e poi serie animata sì sì è la stessa cosa non hai considerato ma ripeto sono extra quello che dice che dice pelato i due quei due film che però ripeto sì vabbè quello se non è ok però sì The Clone Wars nasce anche lì uscì il film al cinema credo e poi dopo ci fecero la serie non mi ricordo più guarda è questa qua aspetta non trovo la ma c'è anche una serie tv però non animata Mauri fanno una cosa Wolf Lion dice ti tocca giocare anche ai videogiochi adesso sì magari canonica nel videogiochi peccato che è difficile guarda ti ho messo il messaggio nella chat privata con quella serie di Clone Wars ok aspetta che ora me la apre qui però me la salvo così dopo la vado a vedere alla fine nei videogiochi di storia canonica mi si è coperto una roba a casa no giusto tra l'altro l'ultimo dicono che faccio abbastanza cagare l'ultimo che è uscito Outlaw mamma mia Outlaw fa cagare aspetta aspetta non ci ho mai giocato fa cagare a livello di gioco ma dicono che abbia una gran bella storia ma io parlo la storia è bella però è anche un multiplayer io ho notato delle cose hanno fatto dei video hanno fatto vedere dei video dove ci sono dei glitch però quali stanno in tutti i giochi mi sa che ci sia anche la parte continua ma è di cosa l'ultimo gioco lo stavo seguendo si l'ultimo gioco si la gente non è che l'ha amato tantissimo è fatto tecnicamente di merda però io lo voglio giocare perché dicono che abbia una storia molto molto interessante però io ho visto che ho visto uno che conosco che ha giocato tutto senza fare le secondarie ha detto che è riuscito non molte ore io ho idea di giocarsi in quel modo lì dritto per dritto storia fine tanto sì perché se già non è un gran un gran gioco no più che altro è che è quasi tutto stealth esatto mentre ai giochi belli erano quelli vecchi tipo Jedi Knight tipo Star Wars The Old Republic no beh hai gli ultimi due The Fallen Order e Jedi Survivor che sono veramente belli secondo me non l'ho giocato ancora io sì a livello di storia sono molto interessanti ma qui parliamo di più avanti io ho giocato essendo più vecchio ho giocato a Red Squadron non lo ricordate io giocavo ma io giocavo tipo X-Wing TIE Fighter però Night of The Old Republic era fighissimo cioè c'era questa storia ambientata nel passato che andava un po' a scoprire le varie cose c'era Jedi Academy c'era un sacco di questi giochi di ruolo in cui tu interpretavi il personaggio e facevi delle robe ebbè poi però il problema è che sono tutti giochi che è difficile giocare oggi perché ai tempi erano fighi riguardarli oggi abituato ai giochi di oggi per me è molto difficile hanno annunciato il remake di Night of The Republic e l'hanno tipo cancellato no 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 hanno dato le news perché sembrava fosse cancellato forse abbandonato è però abbandonato al momento perché quello sarebbe molto figo perché la storia era proprio figa cioè riportarlo con una grafica aggiornata magari anche le meccaniche un po' aggiornate al giorno sarebbe fichissimo però sì se parliamo di storia canonica gli unici due sono gli unici tre sono questi quattro sì 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 perché io con retro gaming ho grossi problemi a giocare ai vecchi giochi però oddio X-Wing tecnicamente è canonico cioè sei tu che fai le missioni sì X-Wing è ancora X-Wing era un simulatore di volo tu guidavi il caccia della beh ne hanno fatti vari hanno fatto poi le varie versioni di più io mi ricordo che ai tempi balavo per fare l'ultima missione cambiavo il file della missione con i file della primissima missione così tu finivi la primissima missione lui ti considerava che vi è finito la fine avevi tutto la morte nera ti partiva la scena finale no vabbè che imbroglione X-Wing era complicato poi i giochi di allora erano complicati cioè oggi c'è un gioco di volo ti mettono sulla navicella spari 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 deve essere un po' abile hai tempo di ricapire tutto di gestire gli scudi e capire esattamente come avvicinarti al nemico e come utilizzare le bombe era una roba quasi più simulatore molto più simulativa di oggi quando hai in programma di andare avanti no io subito cioè cosa cazzo c'ha da fare eh? e se ne guardiamo il primo? no no non hai capito no no non capisce Steve non ha capito che ci sono due serie animate da vedere prima guardiamo insieme tutti i droids tutta notte esatto andiamo tutti su discord e guardiamo insieme droids Twitch si lamenti e si butti su con la roba lì quando credo che Twitch magari no però mi arriva Topolino con la lettera degli avvocati con la spada laser come in South Park che ti telefona proprio sono Topolino esatto che cosa hai fatto? è già la mia povera vita senti questo rumore sono i miei servi che stanno sfondandoti la porta diciamo che su Twitch ci sono canali che fanno intere trasmissioni di anime di tutti i tipi ci sono altri canali che hanno proprio cioè loro mandano una roba già rippata ma la cosa più diversa che mi sono stati recente su questo cosa della pirateria ero su YouTube mi parte questo video di questo tizio che fa l'alternativa ideale a Netflix ma come piattaforma e non come contenuti e fa questo programma su Linux che è praticamente un gestore di contenuti sì però dove li pigli i contenuti? no vabbè cioè lui non parla di pirateria no lui è serissimo bravissimo ma perché? poi avete la possibilità della scheda la lista di Cody era era Cody era il programma non lo so non lo so era un programma per Linux super figo tutti i dati ti seleziona tutte le robe c'hai la miniatura il player che funziona benissimo la solita lamentela ovviamente è perché oggi non è che puoi avere tutte le piattaforme ma mica ti servono cioè nel senso io cosa faccio? io quando mi interessa qualcosa io quando mi interessa qualcosa mi abbono a quella piattaforma e la guardo quando non mi interessa quando va guardata polgo l'abbonamento mi abbono a un'altra a prescindere cioè nel senso il discorso non puoi avere tutto è come dire non puoi avere tutte le macchine del mondo è la stessa identità io voglio la Lamborghini ma non me la posso voglio dire che faccio vado in congestionare ma comunque Netflix costa 12 euro non costa 35 euro al mese ma con la pubblicità sta 6 euro se vuoi rispondere tra l'altro Prime ormai c'è la pubblicità perché io mi rifiuto di dargli i soldi in più per togliere la pubblicità anche io però posso dire che che odio guardare le robe in streaming con la pubblicità poi la pubblicità dei loro prodotti spesso a me ogni tanto qualche pubblicità nelle serie belle importanti qualche pubblicità vera arriva io l'altra sera ho guardato tre episodi di vedere il potere e pubblicità Naruto e era un altro anime che non mi ricordo cosa ma sai cos'è secondo me è che sono targettizzate io tipo ho visto un film l'altro giorno e mi è partita una pubblicità di vera però si il potere mi fa vedere soltanto roba loro Prime non mi ricordo però sono sicuro che su Disney Plus sto guardando anche The Bear tra l'altro mi manca l'ultima puntata in Disney Plus c'è la pubblicità perché l'ha fatto la versione pubblicitaria ho fatto quella così io l'ho sempre fatto quella con no perché mi era scaduto quello annuale e mi hanno fatto un'offerta per rimetterlo abbastanza buona però con la pubblicità l'ho fatto quella tanto c'è la pubblicità all'inizio e una alla fine se non ho alcun tipo di problema da ammetterlo se mi cavano la condivisione anche da Disney Plus io lo tolgo e vado di streaming illegale a lei attenzione a lei amici della GDF che ci seguite intanto Netflix ho disdetto da quando hanno cavato la condivisione disdetto e ci si vede poi quando la riattivate no perché c'è un limite beh ci devono anche pensare a queste cose effettivamente nel senso io non voglio spingere lo streaming posso dire una cosa ho sempre fatto senza ho sempre pagato le piattaforme quando avevano dei presti umani ma per me non dicevo è umano non capisco perché non lo sia se ti aggiungi tutte le altre piattaforme ma non le faccio tutte insieme perché io guardo su diverse piattaforme e ho capito e cosa fai fai un mese poi guardi una roba e poi dopo cosa fai con quel mese lì non hai più guardata guardi una roba non faccio un mese faccio due due tre mesi su c'è una zona grigia cioè non c'era alcun motivo di togliere la condivisione quella che c'era una condivisione solo per spingare solo della gente ma è ovvio è il loro lavoro se non è hanno fatto una cagata io non te la pago più no volevo dire se lo streaming smetto di guardare le serie non è mica un problema però ragazzi scusatemi c'è una zona grigia che bisogna capire ancora in che settore va inserita cioè ci sono alcune VPN tipo NordVPN ma anche le altre che ti permettono di creare delle stanze virtuali dove tu anche in diversi posti dell'Italia o del mondo puoi avere sempre lo stesso indirizzo IP io voglio capire sta cosa è legale oppure no secondo me perché secondo me è un po' grigia come zona il regolamento dice che la condivisione degli account è vietata sotto lo stesso nucleo familiare sotto lo stesso tetto le stesse IP lo stesso IP e lo controllo l'IP pubblico è quello del tetto è quello del tetto se tu attraverso questa VPN perché è vietato usare la VPN cioè simulare di stare in un'altra nazione è vietato ok questo non si può fare ma usare quella VPN ma la VPN è simulare di stare in un altro posto no tu prendi il tuo IP e anche in un'altra casa attraverso quella VPN hai lo stesso IP e il sistema non si accorge simulando di essere in quell'altra casa se la VPN non dovresti farlo infatti in specie non c'è una no non è legale fare questa cosa però quello che tu stai facendo non è giusto cioè non è legale dal punto di vista del contratto non è etico non è etico è fuori dal contratto di Netflix perché tu stai comunque il contratto di Netflix cioè se mi chiudono la condivisione perché io lo condivido con quattro amici che sono da altre parti d'Italia lo chiudono anche per quella cosa lì perché loro dicono che la condivisione deve essere tra nucleo familiare e residente nello stesso indirizzo scusa se io c'ho un figlio che sta all'università a Milano devo fargli un altro residente nello stesso indirizzo è un altro indirizzo si paga un altro account ed è per questo che io ho trovato una enorme cagata visto che non eri obbligato a farlo lo hanno voluto fare e io faccio la mia protesta non sono d'accordo e quindi non te lo pago si però capisci che basta che uno dei quattro continui a pagare per loro è uguale no perché ti rompo di coglioni io ce l'avevo lo stesso no no nel senso per loro a livello economico è uguale si è statisticamente magari sono nulla di quattro a farlo anzi certo però intanto un account che aveva era quello che costava di più ok si 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 era quello che costava di più intanto quello l'abbiamo tolto mi dispiace poi loro non mi frega un cazzo neanche me di andare in streaming c'è un sito pure non so se è uguale a netflix e a tutta la roba di tutti i siti si c'è un nome che inizia con la e finisce con streaming community no però voglio dire per esempio da zona non so chi ti vuole chiedere seguo lo sport sono mai abbonato dello sport prima ti permetteva di fare almeno due utilizzi in contemporanea oggi anche quello non è possibile i due sono ammessi solo sullo stesso indirizzo ma non è così io non capisco perché mi scandalizza questa cosa mi scandalizza mica io dico solo che non la trovo una cosa giusta e che quindi non ti fa l'abbonamento fine sapete che hanno fatto questa cosa della bilateria dello streaming hanno fatto un po' come fecero con la playstation 1 cioè all'inizio hanno chiuso è ovvio su questa cosa poi arriva la playstation 2 chiudono tutte e due gli occhi arriva la playstation 3 e trovano il modo per bloccare la pirateria non è vero lo tenevano anche prima ma intanto nelle case dei ragazzi di tutto il mondo c'era una playstation esatto esatto è questa è questa la cosa che stanno facendo uguale campavano eh ma perché era della sony la console dall'altro lato però da quando stanno spingendo troppo sui prezzi molta gente poi si è allontanata c'è stato un esodo in america ora qua noi non possiamo fare i calcoli ma in america c'è stato un esodo di gente che ha cancellato netflix da quando ha tolto la roba ah beh sì dicevo che ha perso tipo 80 milioni di abbonati c'è stato un ritorno alla pirateria massiccio e se iniziano anche tutti gli altri con prime perché prime si salva perché ha tutti gli altri servizi quindi ti sto sopportando la pubblicità perché ha tutti gli altri servizi ma se disney plus che io uso di più di netflix mi mette su la qualche altra menata che anche loro hanno detto che toglievano la condivisione non l'hanno ancora fatto sono almeno un anno che dicono che la tolgono non l'hanno ancora fatto se me la tolgono non è mica un problema io anche con disney plus vado di pirateria c'è una classifica mondiale noi siamo secondi dietro il brasile prima della cina per pirateria poi la gente si domanda perché arriva terminator che è una bellissima serie animata e ci sta pure la lingua degli antichi egizi e non ci sta il doppiaggio italiano è lo stesso discorso sui videogiochi come mai non doppiano più niente in italiano ma sarà perché siamo lo 0,7 dei giocatori nel mondo in pirateria è un problema che siamo uno stato piccolo non è che ci sono stati più piccoli o uguali che magari ci hanno doppiato che hanno molti più più giocatori stranamente e hanno molte più e hanno le cose doppiate i più piccoli che hanno le cose doppiate chi sono? ma tipo uguali a noi Francia Germania la francese non è stato solo in Francia lo spagnolo non è stato solo in Francia neanche l'italiano non si parla solo in Italia ma ragazzi ci sono italiani in tutto il mondo sì vabbè ma l'italiano come lingua parlata è la lingua principale ma gli italiani come popolo sono diffusi in tutto il mondo quindi alla fine sì si conta che nel mondo ce ne sono almeno ci dovrebbero essere almeno altri 60 milioni sparsi in tutto il mondo però non parlano l'italiano ma nel frattempo parla di altre lingue no però ragazzi I'm Italian e poi non parlo neanche con la parola d'italiano però c'è c'è una cosa che vi voglio raccontare che vi fa capire un po' la visione degli italiani che almeno era all'epoca così che è legata a questo perché quando sono stato nell'86 a trovare i miei zii lì a New York per strada c'erano questi cesti di vetro con i giornali dentro che non so se ci sono ancora credo di no ma 30 anni fa 40 anni fa c'erano tu andavi lì aprivi prelevavi il giornale chiudevi e poi mettevi il soldino nella cosa laterale sì ok io avevo 12 anni la prima cosa è chiesa a mio padre e dissi papà scusa io sono campano dissi papà scusa dissi papà dissi papà scusa ma perché ma scusa quello non è bloccato qualcosa ma perché ci mettono i soldi perché non se lo prendono i giornali e se ne vanno via non riuscivo a capire questa cosa io è un'altra cosa quella è una cosa culturale italiana però non è così è un'altra cosa ragazzi è la stessa cosa è la stessa cosa è lo stesso principio facciamo due differenze grossi perché un discorso è ho 13 anni ho il pc mi scarico i videogiochi e io lo capisco un discorso è ne ho 30 ho un lavoro però comunque piratizzo pirato perché non ho voglia di spendere quei soldi e posso farlo gratis dai specialmente se parliamo in ambito gaming perché all'ambito gaming la pirateria è praticamente morta perché oggi sono riusciti la pirateria quindi non mi puoi applicare finché vive finché vive non mi puoi applicare lo stesso discorso in ambito è che non è così vero no si videogiocchi no ok si si videogiocchi no ma il principio è lo stesso e non c'entra un cazzo col discorso della mentalità perché quella mentalità c'è anche in milati se parliamo di Giappone in Giappone che ci sono quelle bancarelline abbandonate si senza il cassiere però esatto quella cosa funzionerebbe non funzionerebbe in Italia come non funzionerebbe in mille altre parti del mondo poi lungi da me difendere l'italiano però non parliamo di traduzioni non fatte o quant'altro perché piratiamo no è perché siamo quattro stronti è quella la differenza secondo me non proprio c'entra anche la pirateria non c'è un investimento sulle traduzioni sui doppiaggi c'entra che gli italiani sono relativamente pochi anche nel mercato legale pochi e quei pochi che ci sono o piratano tutto ragazzi poi vi dico un'altra cosa in Italia si è diffusa questa visione elitaria dice no io mi guardo gli anime perché mi piace guardare gli anime con i sottotitoli perché perché voglio sentire la voce del doppiatore originale nel 90% dei casi è una cazzata motivo vero è che gli anime sottotitollati sono facili da trovare ovunque e il 90% di chi li guarda li guarda su piattaforme illegali questa è la verità non è vero che c'è questa ma stai forse dicendo che anche nell'ambiente questo qua quando tipo ogni caso edificio presenta il manga stranamente metà dei creato li hanno già letti perché ovviamente se li leggono tutti sulle piattaforme è legalissimo ah benissimo benissimo questo beh deve ancora uscire come hai fatto l'ho letto su manga plus ma non è di Shueisha ma poi perché sai giapponese no manga plus ci sono in inglese effettivamente si è in spagnolo anche beh quello allora lì c'è poi torniamo un attimo a parlare di star wars lì c'è no no però è solo per dire che su questa cosa dei creators c'è una metà che l'ha letto in scan è una metà che dice che è bello a prescindere quindi comunque anche se non l'ha letto neanche il scan spesso è con quelli che leggono lo scan dicono io leggo le scan però poi quando arriva lo compro si si chi va una scusa giusta al QB no vabbè però ma anche perché si il discorso è leggo 85 scan però poi alcune di quelle cose che non mi piacciono molto quando i sceni italiani lo compro due li compro poi anche si 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 no torniamo a parlare un po' di star wars cioè voglio sapere anche un po' la vostra proprio sui film in sé per sé vi ho detto un pochino come li ho trovati a livello anche emotivo i personaggi preferiti che ho trovato la mia città di loro che è quello che mi è piaciuto di più tipo il bichini dorato il? il bichini di lei il bichini ma quello del terzo film dici eh beh ci sono dei cosplay su quella cosa lì anche Jabba non è male Jabba dipende se ti piace la categoria Jabba è morbido morbido è bello viscidoso anche c'è il l'allevatore del rancor ah quello quello che entra alla fine quando lo si 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 eh no appunto ditemi voi qualcosa proprio a livello emotivo anche legato ai tre film della serie della serie principale si può dire che è stato creato il villain più villain di tutti della storia assoluto in assoluto non si vede molto però no infatti non capisco se a me sembra un solo quello lì non credo sia lui effettivamente se lo è anche con la variant è molto bello ah ah ok a me sembrava uno in piedi bellissima questa dall'altro non so che ci sia negli occhi in realtà c'è una tizia con la spada si lui è un gran bel personaggio è un gran bel personaggio la cattiveria fatta ma proprio come presenza cioè beh io ti posso dire che secondo me ho rovinato le sue origini nei prequel ma questo poi lo scoprirà anche Kiri io ti posso dire secondo me più che proprio come super mega cattivo effettivamente la presenza è quella cioè nel senso lo vedi tutto nero il bocione l'asma tutto il resto però sì è cattivo però c'ha dei momenti anche in cui vabbè è affascinante tralasciando poi il terzo film dove c'è quasi una redenzione però effettivamente non è totalmente cattivo secondo me non allora lì non lo vedi nella sua vera cattiveria cioè ok ma poi arriveranno parti in cui lo vedrai che veramente è cattivo e lì varrebbe la pena leggere una storia a fumetti a parte che lo vedrai in Rogue One che è l'unica cosa fondamentalmente quasi l'unica no l'unica cosa madonna quella scena è spettacolare madonna santa aggiuntiva tra l'altro aggiuntiva fatta dopo che non doveva neanche esserci che la scena probabilmente fosse una delle più belle in cui compare Vader e lì capisci quanto veramente è cattivo e nei fumetti c'è la serie di Vader come diceva prima Umbe e c'è una mini che è Vader Down che è Vader colpito ed è di una cattiveria imbarazzante è veramente veramente rabbioso la prossima volta che mi farò ospitare a casa di Umberto so cosa leggere ci stai Umbe anche perché sono due numeri veramente non mi ricordo dove stava però a me è come Xbox nei primi spillati usciti su Marvel vabbè ce l'hai sì Umberto sì penso di sì eh cazzo e lì perché una cosa che perché io sono innamorato di tutto quello che ha creato cioè l'universo proprio di Star Wars cioè ripeto non sono i film di per sé è l'universo sì 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 è quello certo e la cosa bella è che dopo scoprirai come funzionano i Sith perché ancora non lo sai in realtà non sai neanche quasi che sono Sith allora l'ho capito se ne parla quasi niente non se ne parla non se ne parla non se ne parla perché se stanno sempre Sith hai capito effettivamente no però nei primi tre film non vengono proprio nominati mi sembra dopo imparerai che c'è la legge dei due quindi c'è sempre un allievo e un maestro è uno o l'altro ok esatto e quindi tra gli allievi si instaura una super rapporto dice no fratellanza rivalità ah ok perché di allievo uno ne può rimanere o diventi il maestro o sei l'unico allievo è un po' come il discendente di occulto via molta parte molta parte che riguarda i Sith anche nella trilogia prequel riguarderà questa cosa ok e questa cosa è spiegata bene anche in altre storie e quant'altro e lì vedi come Vader non lascia passare nessuno cioè lui l'apprendista fine ok 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 però tutta roba abbastanza extra no perché a livello cinematografico lo vedi bene forse solo in in Rogue One perché per esempio nei film io mi aspettavo che comunque lui ripudiasse totalmente suo figlio che proprio fosse un cattivo al cento per cento e dice no vabbè non mi frega un cazzo invece no comunque cerca di portarlo dalla sua parte con l'imperatore poi anche per convenienza ovviamente perché è forte però si vede che c'è l'attaccamento che non è uno che dice beh lo piglio e gli taglio subito la testa perché disconosco che è il mio figlio è una storia di redenzione alla fine esatto la rabbia la vedrai adesso la rabbia è molto prima lui ormai lì è arrivato ok noi lo vediamo che è già Vader da un pezzo insomma non ormai la rabbia è scemata sì 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 come i vecchi che diventano che si emozionano facilmente diventano emotivi lui un po' è così ok tornando anche io mi emoziono sempre di più facilmente è vero cioè in vecchi anno si diventa più emotivi e così anche lui sì sì ma da giovane fra l'imperatore lui no lui si continua a essere stronzo lui è proprio stronzo dell'anima lui si si l'imperatore si vede che ghigna proprio combattete ovviamente ancora meglio la trilogia prequel perché in quella trilogia tu capirai che in realtà cosa porta a essere Darth Vader diventare Darth Vader non è non è una che schifo ma è veramente un atto di amore estremo che lo fa diventare che è totalmente conto quello che diceva nella prima trilogia il che è molto bello no no però nella prima trilogia si crea cioè ti raccontano Vader anche sulla base di una serie di leggende perché non lo conosce veramente bene si provi quando conosceva di persona fu corrotto da un giovane apprendista per il potere perché era no ah perché la romanza un po' la fa un po' generica si poteva dire si può trovare una mezza scusa Obi-Wan non sapeva veramente cosa provava Anakin ok cioè tutto come si è fatto in finocchiare da palpa Tino Obi-Wan non lo sapeva ok che si è fatto in finocchiare non spoilerare non spoilerare lui si è fatto semplicemente traviare dall'odio che in parte è così ma dall'altra parte non è così ma io non vedo l'ora di parlare della seconda teologia perché lì mi diverto c'è della prequel perché lì mi diverto veramente un sacco su certe cose su certe scelte narrative che trovo un po' vediamo vedremo vedremo invece ti voglio dire quello che ha lasciato a me io sono un appassionato di Mecha in tutte le sue forme davvero? le astronavi le cose mi piacciono tantissimo ma le astronavi sono Mecha? sono Mecha ma non sono robot questa è la verità almeno per Nagai è così diciamo diciamo bene diciamo i robot fanno parte di un genere che in Giappone si chiama Mecha e così rientriamo così non si dispiace nessuno ma quello che voglio dire la bellezza la varietà delle delle rappresentazioni di questi giganti meccanici i camminatori l'X-wing l'A-wing il Millennium Falcon gli incrociatori giganti si crea questo mondo che a me bastava già guardare quello e sognare di fare il soldato su una di quelle astronavi era una cosa per me per me favolosa insomma era neanche tanto la spada laser proprio l'idea di pilotare un X-wing ti faccio un esempio quando avevo l'Amica 500 il gioco di X-wing il marocchino non ce l'aveva io lo cercavo perché non lo trovo non ce l'aveva non ce l'aveva non ce l'aveva eravamo lontani eravamo lontani dai centri con i negozi di quelli originali solo per quello e io invece mi comprai online su un giornale un gioco che sembrava X-wing ma non era X-wing per Amica 500 che si chiamava Epic solo per pensava fosse X-wing e dentro c'era Moana e Cicciolina ai mondiali X-wing si chiamava Epic Starfighter non so qualcuno magari il gioco se lo ricorda gioco molto simile che ricalcava sì che all'epoca c'erano un sacco di giochi simili era un misto tra queste forze Battlestar Galactica capito è una cosa molto copiata da quello ma solo perché io volevo pilotare un ala X cioè non c'era niente da fare era una cosa magnifica e quando l'hanno messo nella reggia qui a Caserta per tipo 20 giorni in uno dei proprio l'hanno piazzato lì che tu lo potevi guardare io cioè passavo le ore a girarci intorno perché veramente per me per il pubblico era lì per il set no recente e questa è una cosa molto recente hanno fatto una rivocazione in collaborazione col museo e hanno piazzato e hanno piazzato st'astronave dentro uno dei cortili della reggia ragazzi non vi dico niente cioè io stavo penso a quei cortili immensi poi bellissimo anche quella è tutta farina del sacco di George e infatti tu vedi trilogia classica design della madonna trilogia prequel design della madonna va via lui e non c'è stato un design bello che sia uno in tutti i prodotti nuovi non c'è una nave bella una una eh perché cambiano completamente non c'è nulla di quelle vecchie sono tutti rifacimenti rifacimenti che hanno un senso in realtà perché se tu stai andando avanti ma che bella guardalo lì ma che bello il Taisy Lancer beh sì dimmi che è brutto non sarà originalissimo però è figo sì vabbè però anche quello viene figlio del Tais cioè non è nuovo design l'unica forse che puoi dire era la nave di Kylo che forse qualcosina però pure la nave del Mandaloriano dai questo è il Time Fighter di Darth Vader proprio è proprio quello di Darth Vader questo qui però Mandalorian la Lazer Crest è un quadrato di merda brutta bruttissima esatto quella era l'unica che forse si poteva un po' salvare ma questa è figa come design sembra anche un batwig questo qui è l'ala Y non so come si chiude però si chiude come si chiude diventa tipo quadrata no le ali fanno così ma poi ragazzi la cosa bella vi dico una cosa dell'attenzione scusatemi se porto questa cosa su questo argomento ma lo amo tantissimo l'attenzione per i dettagli dell'ala X e l'ala X è un caccia versatile che può essere quella che sta facendo vedere Umberto no l'X-Wing è il caccia di Luke che è versatile perché è un caccia che può funzionare nello spazio ma quando entra sui pianeti e raggiunge l'atmosfera chiude le ali per creare portanza e funziona benissimo anche all'interno dell'atmosfera è l'unica astronave che ha le due come dire versioni si ma nello spazio non ti serve in realtà lo spazio non ti serve perché vabbè lascia stare neanche i rumori però là ci stanno i rumori dei laser però per dirti già pensare questa cosa per la portanza insomma è una cosa interessantissima però in realtà stanno chiusi anche nello spazio se non stanno combattendo solo quando combattono a livello di bellezza cioè di belle navi design originali sono finiti dopo la trilogia prequel sono finiti e lì anche lì quanto lucas ruppe i maroni per i design come voleva lui quanto lavoro ci fece con i designer sono per tutto infatti lui fece questa genialata anche di volere gli accordi se non ricordo male sui sequel cioè di prendere volle meno soldi prima ma gli accordi sul merchandise e sui sequel lui fu veramente su questa cosa qui un genio premonitore praticamente cazzo era l'unico che ci credeva in quel modo chiusa è così cioè lui sa i soldi che ha guadagnato prima di vendere tutto con il merchandise e quando vendo tutto sì sì con i film voi fateci quello che volete ma i soldini che fate col merchandise un pochino me ne date anche a me geniale perché un sacco di gente di autori originali delle varie opere hanno venduto tutto io penso a tanti mangaka che comunque hanno lasciato tutto alle case editrici o cose del genere pur di pubblicare star wars è il merchandise credo che nessun franchise abbia mai venduto merchandise più di star wars nessuno no 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 ma c'è un fandom così enorme poi guarda già un quasi sessantenne come Umberto che è lì a giocare da tre ore devo capire come era messa la basetta perché sennò quando la rimetto sopra la libreria mi cade di sotto e mi si sfinti magari i gadget che tiro fuori per l'episodio uno due tre magari comincio a comprare qualcosa anch'io poi si sta tra l'altro il Mianion Falcon purtroppo è nella residenza estiva cioè invernale però l'abbiamo già visto diverse volte ma non solo design ma anche il design dei personaggi perché vogliamo parlare di questo signore qua con il quale io mi sono presentato questo è il Mandaloriano questo è Boba ah Boba Fett personaggio con zero linee di dialogo diventato iconico nell'immediato personaggio che non ha fatto niente è caduto in una buca fine basta sì non ha fatto niente no prima la prima cosa che fa mi sembra che va alla caccia di di Luke no di Chiara Luke mi sembra grandi cose sì sì non si sente parlare non dice nulla screenplay ridottissimo diventato iconico nell'immediato perché anche lì anche per Vader ricorderei che questa cosa non è vera perché è apparso prima nello speciale natalizio dove cavalcava il suo dinosauro questa cosa lo fece diventare ancora più iconico si deve trovare quello allora lo speciale natalizio se si vede posso proporre di guardarlo in live quello se non è Disney possiamo rischiare bisogna cambiare gli elastici dei personaggi gli stormtrooper beh per quanto stupidi possono essere tra l'altro stupidi ma visti oggi come hai visto l'errore dello stormtrooper cioè quello che sbatta la testa contro il portone no non ci ho fatto caso ci guardi dove quando c'è un gruppo di stormtrooper che sta passando attraverso una porta dentro la morte nera e uno tira una capocciata contro la porta che si apre ma è nel primo sì non ci ho fatto caso probabilmente con quegli elmi non vedevano veramente una minchia poveri non vedevano e soprattutto l'han tenuto eh esatto secondo me secondo me non vedevano nulla nemmeno in cioè in real nella serie perché non colpiscono mai niente poveri a un certo punto in una serie più avanti c'è proprio la scena in cui li pigliano per il culo nell'episodio sono loro che cercano di colpire il robo e si guardano non riescono a colpire niente per quanto la figura dello stormtrooper il casco dello stormtrooper lo conosce anche mia madre sì 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 ovvio ovvio sì vabbè quella roba giustamente l'ho notata anche io ma ai fini di trama è ovvio che non ti possano prendere non ti possono colpire un solo al cuore o Luke nel terzo mi sembra che che colpiscono la principessa una spalla mi sei l'impegato del mese sì 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 è il primo che colpisce qualcuno è il primo che riesce a colpire qualcuno anche quando fanno gli inseguimenti tutti si sparano loro li pigliano sempre in pieno e esplodono ora si scherza per il pericolo di stormtrooper come se non fosse normalissimo in quei film in quasi tutti esatto è costante la cosa che sono sempre loro sono sempre nella stessa divisa per cui sono identificabili effettivamente tutto quello che ha creato anche a livello visivo era vent'anni avanti rispetto a quello che era tutto il materiale dell'epoca sì ma poi secondo me come si diceva prima proprio il discorso essendo un film per bambini e bambini diversi ora non voglio fare il discorso boomer perché io non lo sono però è vero che comunque non lo sono per niente in realtà proprio io le cose nuove anche sui manga mi piacciono un sacco di manga nuovi no diversi nel senso che si emozionavano molto più facilmente nel senso che c'erano meno cose c'erano meno cose l'evento del film di star wars era un evento se capitasse ora magari sarebbe un evento per un paio di giorni per una settimana allora poi dopo la settimana dopo ci sarebbe il nuovo argomento della settimana ma anche episodio 1 ora io lo ricordo molto meno però posso parlare di più episodio 7 episodio 7 fu veramente portò veramente al cinema chiunque chiunque l'errore che poi hanno fatto oltre a fare dei film di merda è che da lì bombardarono da lì bombardarono ed è lo stesso errore che poi adesso finalmente sono resi conto quando si dovevano rendere conto almeno 10 anni fa sono resi conto anche con marvel che devono rallentare i ritmi che non si può e comunque è finito il 2007 del 2015 ed erano molto più lenti rispetto a ora ad ogni modo è sempre epoca moderna però e però l'idea lì era fare un film all'anno comunque che ok non è marvel però non hai neanche la quantità di personaggi di marvel lì volevano fare un film no addirittura volevano fare uno e uno non mi ricordo ma non hanno fatto tipo uno doveva essere un film di saga un film star wars story quindi o spin off diciamo si hanno fatto solo e cosa hanno fatto roguan poi saga solo dovevano fare così però era comunque troppo non si creava più già non può essere un evento già l'episodio 8 che vabbè che c'era molto malcontento già in giro per quello che era l'episodio 7 ma non c'era ancora quel malcontento che ci fu dopo l'8 ma non c'era già neanche più l'evento non era più un evento no ma è così in tutte le cose l'8 è proprio scritto il problema dell'8 è che hanno fatto delle robe aspetta che ci arriveremo perché dopo ti vestemio contro cioè l'8 sono contro anch'io l'8 a me io no ci arriveremo ci arriveremo no però il discorso è molto generico io penso al wrestling che negli anni 80-90 non è un brutto film però è sbagliato questo problema ne riparleremo quando mi sono appassionato al wrestling io c'erano 4 eventi l'anno che si chiamavano i big four oggi ce n'è uno ogni 15 giorni perché le fiere giri o guarda che le fiere i fumetti marvel sono uguali i fumetti marvel una volta c'era un evento all'anno ogni anno c'era l'evento oggi sono tutti eventi ogni serie ha 7 eventi all'anno cioè la roba ma questa io spero ma non lo so purtroppo che prima o poi se ne accorgano se ne accorgano che siamo veramente arrivati a un livello di saturazione ripeto in marvel se ne sono già accorti star wars se ne sono accorti dopo episodio 9 hanno chiuso baracca e burattini però anche con le serie non è che insomma hanno fatto un po' di beh vabbè non è che abbiano fatto chissà che cosa hanno rallentato molto vabbè ma il marvel scusa non esce sempre un film ogni sei mesi da adesso come vedete adesso hanno allungato un po' dall'ultimo anno dall'ultimo anno adesso a andare in avanti è tornato Bob Iger che dice perché invece è stata una situazione totale quest'anno cos'è uscito di marvel Deadpool è uscito The Marvels quando è uscito non mi ricordo neanche The Marvels è uscito 2023 anche perché l'ho visto io l'ho visto in digitale è scaricato è uscito solamente Deadpool deve uscire qualcos'altro deve uscire deve uscire Kaven deve uscire no infatti deve uscire la serie ma neanche quello c'entra perché Fox c'è Fox e Sony l'ho visto di recente perché stavano producendo quintali di merda la gente si stava rompendo i coglioni e quindi tra l'altro vi dico vi posso anche lanciare una proposta volendo dato che io non ho mai visto neanche i film Marvel dai però una cosa alla volta si potrebbe fare anche quello magari con due o tre film alla volta quando c'è voglia di guardarli poi i primi sono anche bellini no l'altro ho visto i guardiani della galassia cioè sono partito da qui la galassia è bello però è uno dei pochi cioè i guardiani della galassia è uno dei pochi film poi c'è Battisti ma allora diciamo che il problema dei film Marvel Mauri è che in realtà è un unico grande evento praticamente che si allunga in 25 film ma non è vero è una mega serie ma non è vero è così è così perché ma non è vero alcuni film stand alone servono per preparare il percorso sì ma neanche tanto perché anche sta roba adesso Avengers cosa Avengers Endgame e se non hai visto quelli prima sì i personaggi non te li ripresentavano però se l'hai visto Avengers che potevi fare hai fatto proprio Endgame che è l'unico che ha bisogno di vedere tutto il resto ma non tutto ma secondo me è Umberto Barrio perché li conosci è un tutto ma buona parte esatto metti che io non conosco proprio per niente i personaggi non conosco un cazzo è un cazzo di Thor il guarda Endgame ma questo che cazzo è è Thor è il di del tuo sì come mitologia ma è come se ti fanno un film sui cavalieri dello zodiaco e dici vabbè quello è se tu guardi il primo Avengers no è sbagliata questa cosa eh cos'è perché ti ho appunto pigliato a una squesta che è più assensato di quello ehm se vogliamo parlare di Endgame di Infinity War sono sbagliato immagino no vabbè ma ovviamente i film non possono essere accostati ai fumetti però l'ispirazione è quella no però se tu guardi Avengers per dire Avengers non ti serve guardare gli altri ovvio che se li hai visti hai le informazioni in più eh non è necessario al 100% però non è necessario vederli per bene forse sì però questa è un po' la stessa cosa dei fumetti Marvel c'è tante robe tu le potresti leggere tranquillamente solo che la gente ormai è in testa che se non hai letto tutto dal prima apparizione del personaggio è però no ma perché è anche una questione di come uno si approccia a quella lettura io sono così per esempio che è la stessa cosa che sto passando è come se tu vuoi leggere Dylan Dog non serve che ti leggi tutto Dylan Dog ti puoi anche per assurdo andare a cercare le migliori storie di Dylan Dog che comparti quelle e te le puoi leggere tranquillamente perché? perché è fumetto seriale sì sì e quindi niente anche con Star Wars purtroppo non c'è più stato l'intervento che c'è stato con quanto meno i primi sei che i primi sei furono molto più evidente di tutto quello che venne dopo sì è una questione di epoche diverse cioè per me è quello come il signore degli anelli che poi guarderò insomma anche quello guarda il cazzo cioè il cinema proprio chiedi però adesso no io i Goonies l'hai visto? sì il cinema non ho visto il cinema fantasy e robe del genere la storia infinita? sì la storia infinita meno male è uno dei primi film che ho visto al cinema la storia infinita è i Goonies e no è il cinema al futuro sì allora i i film Marvel perché non le considero cinema quindi per quello non l'ho mai visto però per il resto per quel discorso del fan il cinema quanto lo erano quei film lì quanto quali? i Goonies il film sì ma è comunque un prodotto per ragazzi no ma non era quello il senso no no certo no inteso come film e un film della Marvel più o meno è così ovvio che se lo paragoni a Kubrick no ebbè sì sì prima facevo un po' quella Marvel Kubrick pensavo un po' alla Edge in quel modo ma non era quello il discorso che facevo io era più un discorso di essendo comunque roba che veniva fatta proprio per un certo tipo di target molto commerciale non aveva la mia approvazione insomma vabbè no meno quanto sei snob no sì magari il discorso era quello io sono fumetti scritti da autori giapponesi morti negli anni 70 che scrivevano nei soborghi di Osaka però li voglio vedere è vero che prima facevo un po' tra l'altro oggi ho visto un filmone mi hanno invitato l'anteprima stampa di questo film la corazzata con tionchi no era cyborg 009 versus devilman bello molto carino in realtà è una minchionata però è molto bello l'inizio perché ci sono l'inizio è vedi contemporaneamente c'è i cyborg e contemporaneamente c'è la parte di gearman di devilman il tartaruga con le facce però è animata in bianco e nero con disegni in stile nagai del fumetto per cui è molto carino la prossima è la parte perché divaga troppo eh che cattivo vabbè chiacchiera madonna parliamo di star wars mi è arrivata anche l'invito per l'anteprima della rimasterizzata di texas scienzo massacre comoda anche quello a milano anche quella è quello capito un milano a roma ma qua cosa aprite quella porta sì mi hanno detto in agenzia se qualcuno vuole andare non ho risposto perché non sono più il mio genere cos'è una roba del genere cinquantesimo anniversario sì cinquantesimo anniversario bello ma guardo anche a casa sì è il mio film preferito horror io non sono proprio da horror e non me ne frega poi sono anche gli horror di quel tipo se fosse a milano ci andrei di corsa però non è proprio il mio genere quindi sinceramente se qualcun altro vuole andare preferivo adesso facciamo uno scambio un benista a guardare gli horror è meglio proprio però io mi cago cioè non sono molto da horror no pur io non li guardo lo sai però vabbè quello adesso non è quella roba di paura tensione più splatteroso insomma io ti dico solo una delle scene ancora più inquietanti di tutti i film horror che io abbia mai visto è la prima volta che si vede lui che esce da quella portiscina di ferro dalla la porta che non dovevano aprire esattamente c'è questa scena di lui che esce da lì e tira una martellata in testa al tizio che per me è una delle più inquietanti nonostante sia un film degli anni 70 il primo di una potenza che è diventata splatterona sì lo era troppo c'era un po' l'effetto che hanno tutte le serie ovviamente perché comunque appende la gente come pezzi di carne li li sega però era molto psicologica anche come personaggio ammazza a tutti eh? sì sì no niente è una battuta proprio che stupida ammazza tutti? no ha detto così davanti a tutti li sega quella è la versione hot che si trovava poi l'uomo sega The Chainsaw Man Massacre il massacre dell'uomo sega e vabbè direi che Umberto non ci ha detto però la sua ma io non ho emozione cos'è che mi emoziona? è che passiamo un sacco di anni che non guardo gli episodi normali ma dopo vi racconto una cosa se devi chiudere la voglio raccontare no no vai vai a me è sempre la parte comunque di io sono tuo padre è sempre stato bene cosa molto cosa nella graffite dai figo quando lo sgelano è bello sì un po' carbonite quella è sì sì carbonite cosa ho detto? graffite vabbè sì lì bastava la mi sa che la chiamano graffite da qualche parte mi sembra anche a me che fosse chiamata graffite secondo me forse l'abbiamo tradotta male noi potrebbe essere c'è qualcosa comunque la carbonite in generale sì 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 no ti voglio raccontare questa cosa che riguarda insomma la mia prima visione proprio di Star Wars o le mie prime visioni io sono tu prima parlavi del fatto di Darth Vader con l'asma e mi hai fatto venire in mente una mia problematica cioè io sono stato asmatico da bambino ho avuto un sacco di problemi ho fatto cure camminavo sempre con sto vento che mi spruzzavo che non respiravo bene io sono ancora asmatico ancora io un po' ancora io un po' ce l'ho lasciato una a casa e poi mi portò quel santo uomo di mio padre mi portò a vedere Star Wars e alla fine quando uscimmo dal cinema lui mi disse hai visto quello lì respirava male respirava come te e alla fine è il più forte di tutti per me è stato un messaggio mio padre purtroppo se n'è andato l'anno scorso e non c'è più però questa è una delle cose più belle che mi abbia detto in 50 anni di mia vita dove lui mi ha proprio grazie a un cattivo della storia fondamentalmente mi ha fatto un paragone e mi ha detto l'asma non è un handicap in realtà hai visto quello respirava come è fortissimo per me per me fu un messaggio bellissimo hai guardato i episodi 1, 2, 3 hai scoperto che lui era bruciato vivo anche sì ma sì anche essere postati in vivo in fronte non è da vedere un anti-eroe inclusivo anti anti-literam anti-abilista anti-abilista no però è fighissimo come personaggio poi vabbè il fatto che entri accompagnato dalla musica quasi sempre è meraviglioso vogliamo parlare di John Williams tanta roba tanta roba sì anche perché nel documentario che sto guardando la metà forse Star Wars nel documentario che sto guardando molti proprio anche del cast tra attori tecnici e quant'altro dicono proprio questa cosa noi abbiamo guardato il primo montaggio del film senza le musiche è una cosa che ti dico ma sempre col silenzio nelle guerre di Lucas c'è la scena fighissima in quel fumetto lì che c'è George che fa sentire al telefono la colonna sonora per la prima volta c'è John Williams che fa sentire a George per la prima volta al telefono la colonna sonora e c'è lui che gli esplode dal telefono questa bomba sonora che rimane completamente fulgorato cioè io voglio immaginarmi che sia veramente andata così perché non oso immaginarmi che come cazzo possa essere stato sentire per la prima volta quelle colonne sonore che c'è sono fighe sono epiche ecco quelle sono epiche per me non so se esiste una colonna sonora più iconica di quella vedete l'altro giorno un video di uno che chiedeva di mettere in ordine non mi ricordo che cos'era un'intervista forse a qualcuno di mettere in ordine le colonne sonore per epicità perché c'è il signore degli anelli le prime dieci sono tutte di giugno però c'è sì però c'è anche Indiana Jones c'è prima anche le altre di John Williams però come Star Wars basta che ti dica che io che appunto non l'avevo visto comunque la colonna sonora la conoscevo alla perfezione praticamente o almeno il tema di Darth Vader è proprio anche questione di come è entrato nella cultura pop completamente immediata cioè io appena c'è una nota e credo che non sia solo una roba di essere fan o non fan sono musiche da pelle d'oca immediata come la cultura pop ha influenzato la nascita anche di Vader lui sostanzialmente è un cyborg gli anni 70 sono diciamo il decennio dove si sviluppa fortissimo questo legame uomo macchina 73 esce Kyashan 75 in Giappone 75 esce Gigrobo d'acciaio ma probabilmente la serie che ha influenzato la nascita del cyborg anche in di un cyborg anche in Star Wars è una serie famosissima che è un successo pauroso negli Stati Uniti che è l'uomo da 6 milioni di dollari è arrivato da noi anche in Italia la storia di Steve Austin che tra il 76 e il 78 proprio a cavallo del primo Star Wars racconta la storia di quest'uomo senza gambe senza un braccio che viene potenziato di fatto dalla tecnologia non lo so mi piace molto mettermi a cercare queste cose non lo so se voi la vedete così o sono semplici affinità elettive nel senso che era un periodo che si parlava solo di quello allora tutti hanno voluto infilare qualcosa nelle loro storie potrebbero essere anche influenze dall'Oriente come dicevi perché per esempio ci sono delle influenze dal Giappone il casco di Vader il casco è paresemente quello di un samurai di una vecchia armatura giapponese ma anche come combattono loro è paresemente un combattimento tra due spade giapponesi tra due katana quindi è evidente come se parli con i superfan matti ci sono tutti gli stili di di usare la spada laser che hanno poi portato nella spada laser dal vivo cioè c'è la Ludo Sport che è l'associazione che fanno le simulazioni nelle fiere quelle cose lì no quelle cioè ci sono ci sono anche loro però ah proprio lo fanno a livello agonistico c'è la Lega proprio in che si credo internazionale credo sicuramente internazionale che è uno sport schermistico con le spade laser con le bacchette laser cioè con le bacchette di plastica fondamentalmente e quello è Ludo Sport e loro hanno tutte le diverse forme come un'arte marziale andando avanti tu impari le diverse forme di comportamento ah beh ci sta certo la vicinanza a livello effettivo nei film non c'è mai questa cosa sì sì esatto però la vicinanza la vicinanza ai giapponesi la vedi anche nella parola Saber che significa sciabola noi l'abbiamo tradotto con spada non lo so perché anche lui c'è una delle cose spada laser abbiamo tradotto spada laser invece sarebbe sciabola di luce tradotto letteralmente e la sciabola che è una spada diciamo un po' più curva può somigliare di più secondo me a una katana giapponese vabbè anche la sciabola forse è comunque orientale non giapponese ma probabilmente dell'oriente insomma eh sì 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 esatto esatto non confrontiamoci con la scimitarra ragazzi ah infatti c'è la sciabola lasciamola la lingua polacca è leggermente curva è leggermente curva verso la fine è vero non è proprio non mi fate fregata quella che usano gli olympiati che è dritta ma là è per questioni sportive ma la sciabola è leggermente curva fra le varie discipline io io credo che sia il peso sia il peso dell'arma e il bersaglio per esempio il fioretto solo al corpo spada e sciabola bersaglio alto per la spada e la sciabola bersaglio alto e corpo e la spada tutto vale se lo prendi sulla mano sul gomito sul piede vale tutto mi sembra di ricordare così comunque mi sa che è di origine polacca la sciabola effettivamente beh ma allora scusi Umberto non conta niente quanto parla ma lo stava leggendo la wikipedia anche lui ovvio non è che sapesse da zurla zurla no vabbè è zzlabla sciabola in polacchia lui in polacchiesco io spesso vado in polacchia quando mi annoio in Polandia la cosa brutta dall'altro lato finché allora io avevo già visto Dune quello di Lynch di Lynch bellissimo tempo lavoro fondamentalmente ah beh Lynch è un visionario vedendo ora quelli di Villeneuve tutte le dicerie che per me erano dicerie prima di vedere questi Dune qua perché non ho mai letto i libri purtroppo mi piacerebbe molto ma non ho mai avuto il tempo di leggerli sono sette accomodati puoi leggere anche solo il primo tanto è autoconclusivo tutte quelle dicerie che dicevano che Lucas aveva copiato da Dune ti rendi conto che effettivamente non ha copiato ma ha una grossa grossa ispirazione la presa su ma è anche così tanto secondo me cioè nel senso l'università di Dune non c'è intelligenza artificiale l'università rossa è pieno di droidi secondo me sono molto diversi sono molto diversi sono sul pianeta desertico all'inizio ok le navi spaziali funzionano in modo totalmente diverso non esiste la spezia non esiste esiste l'imperatore però l'impero non esiste solo in Dune esiste anche nelle cose di Asimov sì però nei film no sì ma nei film no cioè lo vedi che gli archetipi che ci sono in Dune sono gli stessi che sono in Star Wars sì ma sono archetipi non di Dune proprio di quel tipo di narrazione cioè secondo me cioè prima di Dune non erano stati sviluppati da nessun altro tanto così famoso ok però per dire la saga dell'impero di Asimov è molto simile a quella di Dune anche il discorso dei robot è molto simile a quello di Dune no in fondazione l'intelligenza artificiale è fondamentalmente bandita perché nessuno si fila dell'intelligenza artificiale dopo il crollo dell'impero l'impero crolla esattamente nelle fondazioni più o meno come va poi a finire in Dune non come in Star Wars però eh no io sto parlando di Dune e Star Wars io sto parlando di Star Wars però sono tutti molto simili come però perché l'ambientazione è simile cioè io non parlerei mai di Plagio o di no Plagio ma neanche di Cocchie c'è ispirazioni sì grande ispirazione secondo me ora che ho visto i Dune l'ispirazione ci sta però anche la forza e la roba delle Bene Gesserit insomma ci vuole un bel coraggio per dire che sono così uguali sì c'è questa roba del misticismo ok molto eh sono un bel po' le Bene Gesserit con i JT cioè come sì però secondo me è più una cosa concettuale in cui è facile andare a a prendere due cose che si somigliano poi comunque cioè ci metti una roba che guardando Dune ho avuto parecchi ci sta ci sta però però il film hanno anche fatto dopo che quella roba è uscita al cinema per cui la rappresentazione visiva potrebbe anche essere io non parlo di rappresentazione visiva parlo di concetti infatti ci sono tante cose nella narrazione a livello concettuale che secondo me tornano molto però cioè io voto proprio l'assenza ripeto io preferivo guardare Dune non ci sta non ci credevo per me era una balcetta come un'altra guardando Dune no ma magari non sei neanche l'unico quindi una cosa che manca che c'è in Dune e manca in Star Wars una delle tante cose ma questa è importante secondo me è che Dune mantiene un legame forte con l'umanità la religione di Dune è un'evoluzione di un misto tra cristianesimo e altre religioni hanno ancora un libro sacro che è praticamente l'evoluzione della Bibbia quindi hanno mantenuto anche se sono 20.000 anni 25 mi ricordo avanti alla storia della terra attuale hanno mantenuto un legame anzi forse tornano indietro per quanto riguarda proprio il fatto di crederci così tanto e crederci così tanto ma la cosa importante di Dune per esempio è una cosa che molti non mettono a conto che Dune è una storia di uomini non esistono altre creature intelligenti nell'universo di Dune esiste solo l'uomo mentre Star Wars è una storia polietnica multietnica dove i pianeti hanno vita intelligente che assume forme quella razza umana è strunza e sparsa in tutto l'universo quello è sempre uguale quello è sempre un problema infatti l'impero è xenofobo poi se poi lo guardi a livello narrativo in realtà non c'è una vera differenza cioè alla fine i corgnini però tecnicamente l'imperatore è xenofobo e odia le altre razze e anche un po' i droidi è proprio un po' è proprio stronzo e beh almeno l'imperatore fa lo stronzo se no cazzo che poi tra l'altro i siti originali non erano neanche umani ma questo è un altro discorso mi spoilerà cosa e non lo vedi nei film tanto non vedrai da nessuna parte sta roba qua anche perché non è parte più canone che da tra un po' vengo da te e leggerò tutti i fumetti che hai lì dietro quindi ma mi sa che si vedeva nei videogiochi si vedevano in the old republic che si vedeva dartbane no dart sì lui si vedeva dartplagis il saggio che è quello che viene nominato poi da che è quello teoricamente che tanto se ne frota ma tanto perché mai la cancellata che si vede in acolyte quello che si vede nella grotta teoricamente dartplagis non l'ho non l'ho finita perché mi hai scaduto ci sono caduti cioè nel senso che mi hai scaduto l'abbonamento tanto adesso dovrò farlo quando arriva la serie che sarà bellissima su una strega se ha chiamato è vero pure io me la faccio no ho sentito la cosa lì non mi viene Agatha 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 però è un bel inizio dai è un bel inizio è un bel inizio mi sono divertito tanto sicuramente non pensavo non pensavo non ho grosse parti che mi danno grandi emozioni nei primi tre perché è divertente più che emotivo eh sì ma perché guardati da più grande e li ho riguardati con un po' di distacco perché è inutile conoscendoli già ma no quel tipo di filmografia se lo guardi anche da piccolo lo vivi forse con un po' più di distacco perché è allontano dall'immaginario che tu hai delle cose che stai guardando in quel momento e quindi ho avuto molti più momenti a quali sono legato a livello emotivo negli altri tre molto meno io sinceramente in questi qua ci sono legato di conseguenza ma se ti devo dire una scena che mi provoca particolari emozioni nei primi tre faccio fatica a dirtela ok sì se parliamo di emozioni no no la morte la morte di Obi-Wan ragazzi io pianto da bambino non l'ho trovata molto emozionante come scena quella scelta lì io non l'ho mai capita di Obi-Wan che gli aveva la spada e va sì esatto adesso è un pezzo di stoffa che casca per terra ma poi anche proprio come è fatta non è che gli dà la spadata in fronte no lo tocca su una spalla sì vista adesso sinceramente fa veramente fatica che poi muore tra virgolette che rimane lì a consigliarlo e ascende nella forza sì sì ma è bello che ci fa proprio i discorsi cioè non è un lui che si ricorda è un fantasma di forza sì però ci si mette c'è una scena che ci si mette a sedere cioè lui mi ricordo nel terzo mi sembra che l'ho vista di recente lui si siede lo spirito e si siede anche lui vicino si vengono a chiacchierare bellissimo ma è la forza è una forza che è la forza no no certo l'universo è quando Luke inizia a conoscere un po' anche il lato scuro quando è in addestramento su Dagobah insomma quella inizia ad essere già una parte ecco la morte di Yoda però la morte di Yoda è un po' più emozionante dai carina anche perché fa tutto il discorso vedi proprio la fatica comunque lei è carina è abbastanza emotiva sì avrei voluto vedere Luke un pochino più provato un pochino più emozionato perché non versa neanche una lacca ma povera Hamilton era tutto distrutto poverino per il momento non ce la faceva ad esprimere emozioni in quel periodo cioè sai che nei film si è tipo disintegrato no non lo sapevo questo se tu guardi prova a ridarci un'occhiata all'immagine tu guarda la faccia di Luke adesso non mi ricordo se è stato il primo il secondo fa il secondo il terzo quella del bacio in ospedale cioè quando lui è sul lettino quella è stata messa perché lui si è massacrato la faccia in un incidente in moto se non mi ricordo non lo sapevo se tu ci guardi lì ha dei segni che prima non aveva se tu lo guardi nel terzo film sembra molto più un po' diverso sembrava la faccia un po' più io pensavo magari fosse invecchiato un pochino quando ho ributtato a girare che ancora lui faceva un po' fatica e quindi hanno fatto questa scena in cui lui era lì che si doveva riprendere nella vasca di Bacta quella parte lì è post incidente che lui ha avuto in moto credo si massacrò un po' la faccia e tutto il resto eh no perché infatti quella scena quando muore Yoda mi aspettavo che fosse un pochino più che piangeva magari faceva un po' non era il top attore no no certo era diventato e non era il best attore no era uno che trasmetteva molto quello che doveva essere il personaggio secondo me quindi il ragazzo un cuglionazzo di provincia sì un ragazzo anche un po' ingenuoto lo vedi che quando ogni volta che gli fanno una rivelazione rimane così è giusto un ragazzo buono fondamentalmente sì sì vabbè anche uno però è cresciuto nel deserto a scaricare così gli accumulatori di umidità a fare lo schiavo fondamentalmente sì sì quello zio che lo schiavizzava zio voglio andare all'accademia però pensate che se lo zio lo mandava all'accademia diventava un pilota imperiale vero è una twist no i personaggi what if ecco su quello devo dire i personaggi e se lo zio avesse tifato per l'impero potrebbero fare uno zio a quel punto ora che palle non poterlo dire se c'è una parte ma segnatela segnatela no 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 c'è una scena che coinvolge Anakin in episodio più avanti che per me cioè pesissima ok ok la vedremo la vedremo la vedremo la vedremo il livello di intensità sì sì no no stavo dicendo questa cosa poi andiamo verso la chiusura ovviamente ma i personaggi sono proprio si compensano benissimo secondo me cioè il fatto che 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 il look sia così ingenuotto tutto pacifico tutto per la giustizia il fatto che invece Han sia un pochino più grande quindi anche un pochino più scafato un pochino che che c'ha l'occhio più lungo e poi c'è lei che è un po' quella che fa da mediatrice quindi secondo me si compensano proprio alla grande sì l'ho visto per la prima volta srom esatto ne stiamo parlando e vedrò anche tutti gli altri quindi insomma seguici che faremo delle live dedicate a tutti i film compresi anche ovviamente le magnifiche serie come droids e awoke facciamo quella anche se vuoi farla io non l'ho vista per cui non so cosa dire anche io oh guardala scusa facciamo una live per ogni episodio quindi ce la dobbiamo guardare pure noi insomma una live per ogni episodio della serie animata di awoke e di droids grazie non vedo l'ora io ma è animazione proprio animazione sì sì cartone vabbè io provo razza aliena preferita razza aliena preferita anche proprio così per simpatia cioè si vedono nelle prime tre perché dopo le ballerine con i cosi vabbè ce ne sono un paio che sono delle grandi fighe i twillek sono sempre fighe le twillek quali sono quelle tipo azzurre verdi sì quelle con le due robe sì quelle che ballano davanti a Jabba che ce n'è una che ce n'è una praticamente è l'infantino della chicco quello che suona allora ce n'è uno che non so se suona il sax o cosa che mi ha ricordato uno dei personaggi mi ha ricordato uno dei personaggi dei film di Cameron Splatters le strizza cervelli simile a quei personaggi lì ci sono dei personaggi molto comici in quelle scene beh un'altra frase iconica è una trappola è una trappola non mi viene pesce il generale quello tipo pesce i mon calamari e c'ha la vocina un pochino così nel piangere italiano è tutto strano a me invece piace ragazzi la mia razza la mia razza preferita è è la razza di la razza di Ciubecca cazzo come mi viene il nome come si chiamano i orzi cazzo l'ho cercato prima eh cazzo come mi viene il nome della razza di Ciubecca c'è che abbiamo fatto di vedere un blocco anche a me porca troia veramente non me lo ricordo c'è qualcuno che ha cancellato la nostra memoria si domani sarà ma io l'ho cercato prima l'ho letto e adesso me lo sono ridimenticato i cazzo di vivono su Kashyyyk e sono i si i continuo a rimanere Iwok nella testa ma non è no Iwok quanto si inseriscono no Iwok sono diversi sono i miei preferiti no no perché sono tutti pelosi quindi magari Wookie 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 ma va grazie Google grazie Wikipedia sei la vera ma che non è sui Wookie non è i Wookie cioè è diversa quella cosa non è dice giusto non ho capito tipo Wookie non Wookie ma è una battuta su politica di correct esatto esatto non leggere i consigli che ti danno perché sono assolutamente sbagliati c'è la serie di Obi-Wan che è uscita l'anno fa la serie di Obi-Wan che merda cagata fenomenale ma se Asrom è piaciuta ci sta quando conoscerai invece i Togruta loro sono i più fighi di tutti che stessi sono i Togruta non mi ricordo di cosa di di Ah che mi hanno mai saputo che hanno le teste molto più belle eh sì si Togruta per me sono pazzeschi però mi piace ecco l'altra cosa bella di 1,2,3 che adesso vedrai che arrivano un sacco di raste molto molto fighe perché la Repubblica non era razzista come l'impero non c'era non c'era no diciamo che nei primi tre ce ne sono tante che fanno un pochino da comparsa stanno fondamentalmente nei pianeti esterni stanno lì fanno cazzi loro si vedono un pochino così sullo sfondo poi ci sono i personaggi come Chubekka che appunto sono anche abbastanza protagonisti però la maggior parte sono no la cosa bella è che Jell lo capisce ragazzi tipo io sono Groot si più o meno anche tra i droidi devo dire che c'è C3PO che è simpatico per esempio lui è molto simpatico e poi che altro c'era R2 C2 R2 C2 cos'è R2 C2 era R2 D2 volevi fare a modo suo è simpatico anche lui che poi mi sento il documentario con l'anetto dentro C1P8 che io ho incontrato anche con l'anetto dentro si dove era in qualche fiera sono andato non mi ho capito come si chiama dove alla Star Wars Celebration Nobile 17 quando sono andato ma negli States dove era a Orlando sì e ci vado l'anno prossimo a Tokyo figo 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 quando c'è a Tokyo 17 aprile una roba del genere quel weekend lì ok fate periodo di merda ovviamente andrò là e farò un viaggio in Giappone e non vai in giornata tipo no non va e viene in giornata periodo di merda dipende che magari trovi anche la fioritura è così quindi spaghi un sacco di soldi se te lo fanno tipo a febbraio capisci che spaghi molto meno periodo di merda perché se ci vai per quello sì chiaro però magari ci vai per quello ti becchi anche la fioritura eh quello ci spero ci spero un pochino presto però magari la becchi ma chi se ne frega basta questo sto anami che palle quando vai vai a novembre per quest'anno poi l'anno prossimo ancora non non lo so sinceramente vedremo quest'anno a novembre comunque dovrebbe essere un bel periodo anche anche c'è un bel figo dovrebbe inizio dopo Lucca Comics il nove mi sembra che parto non mi ricordo di preciso ti becchi l'autunno bello bellissimo dovrebbe essere sì un bel periodo mi sembra il nove tutto rosso sì 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 no no ma guarderò tutto tranquillo non ti preoccupare non mi farò sfuggire assolutamente niente come quando arriveremo una roba nuova ti aspetto sarà da da ridere tipo b1 tutte così in fila sarà un'agonia noi almeno l'abbiamo spalmato un po' però ragazzi la scena finale la scena finale di Obi-Wan un po' di un po' di emozione ce l'ha data dai non mi ricordo più quello che ho che io l'ho cancellato Obi-Wan c'era veramente una merda che ovviamente le guarderò piano piano non è che le guardo ora tutte a fila per una settimana io ma io ho sbagliato no 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 è la finale è la finale del Mandaloriano che arriva chi deve arrivare ah ok c'ha voglia di spoiler mi ero no non sto dicendo niente mi ero confuso con con quella no no la finale di Obi-Wan quella quella sì Obi-Wan c'è un punto in cui non è spoiler ma c'è un punto in cui fai conto tu segui una persona in un tunnel no tu sei dietro cambio di scena la persona arriva alla fine e tu sei arrivato è un tunnel letteralmente è un tunnel è tipo la casa dei gemelli dei cavalieri non l'hai visto non l'hai visto beh per me è stato un problema ti dico io nel senso non è il problema però tu dici ma come cazzo l'hai scritta sta roba se già mi fai ma porca puttana dall'inizio ho iniziato io da ordine cronologico di uscita dall'inizio assolutamente io faccio sempre così si iniziamo dalla fine dall'ultimo episodio di una serie guardandoli a vita rosa potrebbe essere magari una prima in chat che ci sono tutti quelli che sono inventati degli ordini i vari ordini sì 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 vabbè che anche nel mondo dei manga succede questo ma guarda i primi tre episodi poi il volume 7-8 del manga poi l'OV 4-5-1-2-3-6 che cazzo di ordine è sembra random fondamentalmente per me è quello come sono usciti uno se li guarda e via no c'è chi ha messo in ordine gli episodi di Clone Wars perché non sono in ordine cronologico vanno a vedere fanno assalti vanti indietro però è anche quello il bello in realtà eh sì se no li facevano in un altro modo va bene va bene va bene devo dire che mi sono divertito molto ragazzuoli e me lo aspettavo effettivamente però quando si parla di qualcosa che c'è passione questo non è niente ancora già sulla prima cosa siamo tutti bene o male quasi da cosa tra un po' iniziamo con la prossima iniziamo sì quella è divisiva con la terza io farò fatica perché io ho una parte emotiva che le voglio bene a certe cose però effettivamente a gran parte fa cacare ma voi dite già dai prossimi tre film quindi ci si prende a pietra in faccia bellissimo quello che voglio va bene va bene ragazzuoli grazie mille a tutti grazie a voi in chat se esiste qualcuno come me che ancora non ha visto i film magari guardatevi così potete partecipare anche alle prossime live è rimasto l'unico potete vincere uno slot in questa live come ospite speciale e io ero rimasto l'unico a non aver visto Star Wars tipo il giapponese che pensava di essere ancora in guerra qualche anno fa che l'hanno ritrovato nella foresta va bene comunque grazie a tutti